Ben arrivati, grazie mille per essere qui, grazie mille TikTok, ciao belli, mi raccomando ragazzi io vi aspetto in live tutte le sere tranne il venerdì e il sabato su Twitch dalle 20.30 alle 23.30, mi raccomando iscrivetevi anche sul canale YouTube, se state guardando questo video su Codomo Live, questo lo mettiamo su Codomo Live, iscrivetevi, commentate, likeate e lasciate quello che vi pare, commenti, cose dappertutto, roba, fa casino, casino panico. Closed, no, Averted, scusami eh, aprire il negozio, no no, Closed un attimo, aspetta che devo ordinare prima la merce, che cazzo io vieni i mobili? Ciao Cicara, ciao bella, allora interagire, bisogna, bisogna ordinare, ma dal computer, bloccato, bisogna ordinare dal computer, ok, da qui, mercato, cereali, oh bello, allora voglio un cerealo, due cerealo, tre, cinque cerealo, i cinque cerealo giustamente, pette dei pane, altre cinque, farina, che fai, gnavi nella farina, zucchero a velo, pasta, cinque di tutto, grazie, eeeh, ah non c'ho zero euro? E' la madonna, ma me la posso permettere tutta sta roba? Non me la posso permettere tutta sta roba? Scusami eh, scusami, solo due prodotti posso, senti, scusa un attimo, allora, i cereali, mettiamo, senti, mettiamo uno de tutto, almeno che cazzo ne so? Almeno possiamo vendere roba, che ne so? Sei prodotti, ok, sto comunque sotto, vabbè fratello, allora, togliamo lo zucchero a velo, 34 dollari sotto, zio pero, e c'ho più sticche cereali, sa, pio non del culo, me sa, eh, acquista, vai, perfetto, ok, Eeeh, prendi le scatole appena arrivate, tipo dove? Tipo dove? Dove sono arrivate le scatole? Ah, sono arrivate qua? Mars Amazon, porco due, oh! E dove le mettiamo? Ah, le mettiamo direttamente qua? Uuuuuh, pansati, eh, eh, gettamola, ah, gettamola il cassonetto, vedi? Guarda che bello però, eh, incredibile Tutti su, lo stesso scaffale, ma questo che è l'olio di girasoli, che dè? Grazie G9, grazie mille, che so Eccoci qua, prego, signori, venghino, venghino E il pane così a fette aperte? A fette inderi? Ah, ok, così, va bene Ma perché scusa, ma che sto rincoglionita, perché praticamente uno non significa un pezzo, significa una confezione Nooo, sopra Mi sono sbagliato, ho messo due pezzi di farina sotto, che nervoso Ciao Dimoni, buonasera Mike Fissa il prezzo sui prodotti Fissare il prezzo Allora, costo medio 99 centai, io non so buona con queste cose, dai Quanto devo mettere? Temo voi perché io non lo so Ciao ragazzi, ben arrivati Almeno 1,99 199 euro Così eh Ma che cazzo fa? Prezzo, costo medio prezzo Prezzo di mercato 4,50 Ma scusa, ma almeno 3 devo mettere Ma almeno 3,50 devo mettere Frate, ma che mi stai affaffare? Mi stai affaffare a buttare la roba Ma che è una rimissione, ma falliamo tra 5 minuti qua Ci sfrattano dal locale 3,50 frate, dai Pure qua, prezzo medio 3 euro 1,99 Che cazzo hai regalato? Ho pagato di più all'ingrosso, ma che dè? Questo 3, dai, va bene Conferma 3,50 Farina quanto mi fa pagare? 3 euro farina Eh vabbè, 3,50 Dai, fammo comunque dei prezzi competitivi Cioè, non è che qua tocca Tocca stasse Cioè, veramente 3,50 Ok, il pane Quanto è? Il pane Il pane 3,40 Secondo me 3,49 Come fanno i supermercati Mortacci loro Pure questo 3,59 Eh? Eh zio P? 3,59 Conferma Questo 2,99 Ah, l'ho sempre voluto fa' zio Pero Ah, vedi Questa è solo 2,99 È aumentato tutto signora mia Che devi fare? Apri il negozio Oh Buongiorno Buongiorno Benghino Benghino Ammassa Ma che cazzo è questo? Mi sento? Ma dove stiamo qua? A Manhattan Buonasera Salve Sì, mi dica Ah, questo? Solo questo? Grazie Ammassa Non servono tutti questi soldi signora Davvero Va bene, grazie La ringrazio Raccogli il giusto Importo del resto Sto cliccando su Oddio Sto facendo i soldi Ci sono in cassa Oddio, che devo fa' Oddio, che devo fa' I conti? No, io non so' buona a fare sta roba Zitti po' Allora, ricevuto 5 Totale Devo dare il resto Sì, ho vero Devo dare il resto Che conto così, zio Treno? Che fai? Allora Aspè, fermi Ah, 2, 0, 1 C'è scritto qua Vabbè, ma l'affanculo Allora, 1 2 Ma ce l'hai pezzi da 2? Ah, no Sì, aspetta Mi posso ripiare? Va bene Gli è stamattina Un centesimo in più? Posso riprendermi il centesimo? Mi sono sbagliata Oddio, c'è la fila Oddio, che ansia Oddio, che ansia Vabbè, gli regalo un centesimo Conferma Arrivederci, grazie Centesimo in omaggio Si prende la busta, signore? Vabbè, ha lasciato da qua Buonasera, salve Che ci fai con l'olio, lei, signora? Ok Con la carta? Ok Aspetti il bip E può passare Totale 3 Punto 59 Prego Arrivederci, grazie Un po' di farina per la signora Bravi Quando pagate la carta Mi piacete proprio un sacco 3 Punto 50 Andevo da resto Arrivederci Grandiosa Questo va all'opera? Farina vai all'opera Che cazzo ci devi fare? Vi vuole dire qualcosa Mesa a quelli che si esibiscono Quanto? 3,50? Andavo metto a 3,59 questa Arrivederci, grazie Buonasera Katie Perry Salve Per l'olio Vuoi fare una bella torta? Quanto? 7 dollari? Ecco a lei 0,9 Tutti che la carta dovete pagare Il signore Un pezzo di cazzo Questo Perfetto Paga il signore 3,56 e 58 La ringrazio Arrivederci Ma che cazzo è questo? Ma questo Che cazzo è? Che c'è dove fa con l'olio signore? Guarda che non è l'olio La macchina Ma mi può anche guardare in faccia Quando mi da la carta Non è che c'è bisogno Che cazzo è timido il signore 3,59 La ringrazio Arrivederla Prestissimo La signorina Prima tanna batte Passa al supermercato Per comprare L'olio E mi sembra giusto La ringrazio Arrivederci 3,59 Per la signora Buon lavoro Grazie Mi sa che ha già lavorato La signora però Va bene Andiamo Andiamo Dove andiamo? Non andiamo a nessuna parte Perché bisogna Continuare a servire Lui È mafioso Di partire No lui mi sa tipo De marito Che ne so De marito Sfigato Che torna a casa La moglie Lo strilla Capito Arrivederci Mi raccomando Il pane e la farina Non è un po' troppo carboidrato Frate 6,99 La ringrazio Arrivederla Prestissimo Devo ordinare altre cose Ai me credo O per bacco Mercato Piamo un cerealo No Un cerealo E prendiamo Un zuccherino L'olio è andata a ruba Quasi quasi Lo riprenderei Sto sotto Dei 4 dollari Eh frate Che palle Però Leva sta cazzata Allora Piamo i cereali Che ti devo dire Per darsi così Ho comprato? Oh salve Arrivo subito Devo ritirare un pacco D'Amazon Ah i 5 cei Stavano buttati Direttamente All'arcoso Oh meno male Che hanno tolto Qua farina Da qua Mi stava bene Un nervoso Ah ciò C'ho Kipik C'ho Kipik C'ho Piccolik Aspetta Grazie Arrivederci Questo lo mettiamo qui Benissimo Il gioco si chiama Supermarket simulator Salve Anche lui va all'opera Due bottiglie D'olio Ma che bacca Signora No Cash No Cazzo Ce la posso fare Ce la posso fare Ok E allora Il signore Paga 7 e 18 E Ci ha dato 8 euro Quanto io dobbiamo dare Del resto 82 centesimi È scritto qua Allora 50 60 70 80 2 Eh Sono stata brava Arrivederci Ma che è Susanne Stata ai contanti Mo Già l'hai ricevuto Totale Ah non devo dargli testo Grazie Arrivederci Lei Meno male Questo paga la carta Quanto deve pagare 2 e 99 No 9 no Scusi ho sbagliato E 2.99 Ah ringrazio Arrivederci Stolio Sta veramente a una ruba Non lo so che ci sta dentro Il prezzo dei cereali Zio P Non l'ho messo 3.59 Ma che si Piano gratis Mmm Quanto io dobbiamo dare 51 centesimi 51 Dai sto diventando Drago Arrivederci Ma mia che dragone Allora I cereali A quanti mettiamo Allora Prezzo di mercato Stanno a 5 A 6 euro Praticamente E noi li metteremo A 5.99 Conferma Eccoci qua 5.99 Ragazzi C'è tutta la vita Ragazzi di Tiktok Il gioco si chiama Supermarket Simulator E su Tiktok Lo stanno portando Un sacco di persone Stranieri Ho visto per lo più Però Anzi no per lo più Solo stranieri In realtà Però sta andando Molto Di moda Recentemente 37 Ok Ah è 04 A lei E nomina La signorina Cereali Sì via Che ti peri La cugina Hai ritornato Che ti peri Per i cereali Oh Stanno a spopolare Mi hai dato già i sordi Che mi devi 5 6 7 8 E 2 centesimi Arrivederci Oh Sti ciocopiche Ma che ce fate 5 5 99 Stiamo a diventare Ritti qua Frate La signorina Invece prende Due pacchi Di farina Grande serata Stasera Ah Di dove da resto 40 Ma hai dato 50 Dollari Per 7 euro Ma che te potessi Piena cagarella A fischio 43 dollari Mi tocca Dai 23 3 1 2 E 3 Ah signor Se ne vado a casa Che sta Se sta a fa notte Questa Mo viene a piar pane Pure l'olio Dai Hai visto Mo via Ma questa è la signora Di prima Gli hai piaciuto D'olio Ha lavorato bene Adesso c'ha fame E deve mangiare Con tanti Presi dal cliente Di prima 4 1 2 3 4 Con 25 30 Oddio Ok Ok Ah si Ma se qua c'è Una luce qua dentro Siete più cazzo Scusami un attimo Aspetta un attimo Un attimo un po' Eh che cazzo Scusate Che si è fatta Un attimo Una certa Ari eccola questa Questi cazzo De contanti Ti è beccate sto centesimo Del resto Non rompere i coglioni Ari eccolo qua Bruce Willis Che i capelli Dai 3 centesimi Ma perché non vi Non vi tenevi Eccolo lì 4 e 1 centesimo Arrivederci Grazie Ancora questa Ancora questa Ancora questa Ma certo C'ha da lavorare Frate Ciao Marica Ti noto il prezzo Minore di quello Del mercato Ma davvero Frate Ma Sto Davvero Sto a fare pochi Sordi E mo aspetta Che famo un attimo Mente locale Appena chiudo il negozio Riprezzamo tutto Famo davvero panico Riley replay Grazie mille per gli otto mesi Grazie per il prime Grazie per il supporto Ricordatevi che se volete Abbonarvi anche voi Potete farlo gratis Se avete Amazon Prime La signora sta scappacca Vor pane Eccoci qua Ma è un quartiere De prostitute Ma come stanno in giro queste 52 centesimi Quanto è 52 centesimi Quanta Rivederla Graziella Guarda come cammina Questa pure mi sa che Lavora nel quartiere E mo alzo i prezzi Sì mo alzo i prezzi Acquista una licenza Prodotto usando il computer Ah Entra il fine del giorno Vabbè qualcosa Pure il bolletto Devo pagare Ricerai le bollette giornate A partire da oggi Assicuratevi di pagare Le fatture usando il computer Prima della loro data di scadenza Capirei Ma anche i miei Mi pago Vabbè Vediamo un po' Che cosa possiamo comprare Vediamo che prima Che cosa è finito L'olio Finito Farina finita L'olio Reganna da ruba Aggiunge al carrello Farina finita E il pane Mi pare che c'è fosse Che cos'altro Che cos'altro non c'era Il pane c'è L'olio finitissimo Ma poi solo ste cose Posso comprare I cereali c'erano La pasta Dove c'è sta la pasta La pasta Acquista La pasta Che resta Ok La pasta Signori La pasta La mettiamo di qua Pansati Questo è proprio vero Che la pasta Che la panza Divene che la pasta Pansati Devo comprare la licenza Hai ragione Bravo Hai ragione Bravo E il farinona Perfetto Allora Mo si Mo compro tutto Ma soprattutto Mo ve leggo un attimo Perché se gioco Riesco a leggervi poco Qui c'è l'olio Vero E lo rimettiamo qua Quest'olio Va proprio A rubis Mettiamo di qua Allora Allora Acquistiamo sta licenza Spegna la luce No Tenta Allora Allora Prodotti Chiudi Gestione Licenza prodotto Acquista una licenza prodotto Usando il computer Livello del negozio Livello 3 Quindi non posso Comprar proprio un cazzo Regà Spegni la luce di giorno Non è accesa Non è accesa Ciao Anastasia Ma si può installare Senza pagare Questo No Questo costa 10 euro Mi pare 10 euro sto gioco Regà Devo risistermare i prezzi Devo risistermare i prezzi E non lo posso fare Ma perché non me lo fa fare Però Magari sono già A livello 4 3 No E non me lo fa fare Il prezzo di licenza È 2 più 8 E vabbè Ma comunque non so A livello 3 A me sta Allora riprezziamo Un attimo Sti cosi Prezzo del mercato 4,50 E io pure Te lo metto A 4,50 59 Poco 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 De più Alla fine Sono solo una piccola Imprenditrice 3,99 Ti metto Eccolo qua 3,99 Il ChocoPosk Ok Conferma La farina La farina La farina Prezzo di mercato 3,71 No mettiamo 3,77 Mamma mia Sti prezzi Che ti danno Proprio Infastidiscono A vederli Il prezzo Della farina Qua c'è Troppo Bassa 3 E 20 E 43 Mamma mia Sti prezzi Proprio E L'olio 4,59 L'ho messo Ma quanto cazzo Costa l'olio Il pane è poco Ma come il pane è poco Ma come il pane 3,99 Dai Quanto devo far pagare 4 E fammi pagare 4 Che ti devo dire Arriverà pure la finanza Allora Io qui Amiccio a tutto Direi di Aprire il negozio E aspettare Che ci assalgano Devo comprare la licenza Ma penso che Vedi livello negozio 2 Non posso comprare niente È vero che non c'ho manco I soldi per comprare la licenza Però Penso Intendeste dire Che è poca la quantità Ah è poco il pane Dichi Ecco il piano Un altro Che ti devo dire Mercato Aggiungi al carello Aggiungiamo pure questo Dai Piamo il zucchero a velo Non sta entrando il cliente Come mai C'ho prezzi troppo arti Frate Ho messo Ah no Eccoli qua Ok Questo Su su Giù No Mi sono sbagliata Zio Pero Mannaggia Lo zio Perone Arrivo Signora Mi ho buttato Scatolono Ma che io Ho tirato in testa Questo scatolone A questo Oddio Il pane Frate Il pane Il ripiano è pieno E mettiamo No Ok Scatolono Buttato Perfetto Ok Buonasera Prego Venghi Due pacchi cereali col pane La curazione intensa Fanno ride che non Veramente 20 Il resto 4 dollari e 2 Ok 1 2 3 4 E 2 centesimi Prego Arrivederci Eccoci qua Buonasera Pane No farina E qualcos'altro Non mi interessa C'ha la C'ha la La card Questo Aspetto 20 Eccoci qua Arrivederci Buonasera Arri Ecco che botti d'olio Lei me paga Ah no 82 centesimi Di resto 50 60 80 85 5 E 2 Perfetto Arrivederci Buonasera L'olio Grazie Con la card Sempre simpaticissimi Quando mi pagate La card Comunque Grazie Arrivederla Prezzo dello zucchero Eh zio pe C'ha ragione Pure te Prezzo dello zucchero Sta a 4 Ci metto Ma 5 Totale 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 Conferma Bene Bene Allora la signora Prende le penne Con la farina Grazie 14 E 40 Ecco qua Può aggiungere il bip Al bip Il pim Il pip Che cazzo è Powder sugar Ah ma Ah è zucchero De cazzo Perfetto Arrivederci È zucchero a velo Ma sembrava zucchero Tipo di stevia Capito Qua roba là Eccola qua Massa questa Che è la guatta del quartiere Col tacchetto così Guardala Pare il floriano Del grande fratello Guardala Te prego Solo per veri intenditori Ah Ma frate qua C'è un pezzo De pane C'è un pezzo De pane Così Ecco qua Quella è Palesemente Una cugina Sto pane Vi piace Massa Allora Abbiamo 8 Dollari Per il signore Grazie Arrivederla Ciao amica Avete aperto nuovi Qua stasera Sì signorina Prende la farina E il pane E poi c'è proprio Magna Sì un sacco E gli devo dare Di resto Un cazzo Arrivederci Cosa sto aspettando Che la saluto Ciao Vale No c'è lavoro In un supermercato Sia incubo Bellissimo Floriana rega Solo per veri intenditori Floriana Allora Il signore le penne Eh Cenetta per due Signore Non sa bisogna essere vergogna Però Allora 6 euro E 86 Due pacchi De penne Cioè praticamente Domani Andiamo tutti In banca rotta La farina Bene Grazie 23 centesimi 10 20 3 Arrivederla Come stiamo messi Qua roba Sembra Bu Sembra giusto Buonasera Evie E' ritornata Floriana Miley Cyrus Ma gli giochi Horror Frate non è che Devo portare Tutte le sere Gli giochi Horror Non vi preoccupate Li portiamo A parte che Siamo portati Un gioco Veramente terribile Per tre giorni Non voglio più Vedere giochi Horror Per almeno Almeno Stosera Un po' Di zucchero Sussù Questo chiamenamo A questo chiamenamo Ma hai dato 100 dollari Per pagare 5 dollari Frate E ti sei portato Addietro tutto quanto All'orchestra Qua Tutti i dipendenti Dell'ufficio Che cazzo è Wolf of Wall Street Che è 95 dollari Ma che te Pian Grandissimo Corpo Guarda Ti è Vatta N'affanculo È venuto qua Per farse Cambia 100 dollari Sicuro Ha preso Un pacchetto De gomme Vedi Il collega Tu è serio 12 dollari 61 Arrivederci Signore Al pacino Grande Con la card Uomini Di alto livello Che di Con patate Questa È il barista Purello Se ho comprati Penne Per stasera L'unica cosa Che può Magna E te devo Dà 4 dollari 14 1 2 3 1 2 3 4 Arrivederci Poi di zucchero La villola Va su su Esatto Cravattina La trampa Signorina Signorina Pure Se prendiamo Tutti Te dà Ma la carta Come vai 3 E 77 Buonasera Arrivederci Su su E quanto Che devo Da questo Vabbè 10 dollari Dai Arrivederla Arrivederla Arrivederci Zio Zio Perina Tutto Tocca Comprar La farina Zio Perina Le pennette Ma vabbè Ma compramo tutto Frate Ma che ce frega Aspetta No Quanti sordi C'ho Che coglioni Però Non posso Comprar Una sega Perché Spenniamo Tutto Spenniamo Senti Io Io Va bene Così Oh Lui Mamma mia Questo Mi punta Il cortello Mi punta No Ma perché È crashato Dai Ma come Live Terminata Ma come Live Terminata Ma perché Ma non è vero Ma come Controllare La rete Riprova Cioè Ma una sera Che mi va Bene La live Ma come M'hanno bannata Ma perché Cosa Sto passando Le cose Al supermercato Ma come M'hanno bannata Ma non c'è Ma ancora Notifica Ma che roba Io non ho parole Fratente Giù Ma cosa Si bannano Ma cosa Si bannano No Vabbè La finanza Mi ha bannata Ma che cazzo Dice Live Live L'ultima cosa No però è strano Non mi è suscita Nessuna segnalazione Di ban Very strange Molto strano Sta cosa però Non mi è arrivata Nessuna notifica Di ban E poi Chiudi Riapri Vediamo un attimo Accendi per iniziare No niente Delirio Lo riproverò A farlo dopo Comunque è strano Comunque è very Strano Strano Vabbè Jones Buonasera All'Alpec Sì Comunque sono Veramente Scandalosi Ma non penso Che sia stato Che sia stata Bannata Su tiktok Altrimenti Mi sarebbe arrivata La notifica Secondo me C'è stato Semplicemente Un errore Crashato E Non riesco Non riesco a trovare Crafting Farina Stai a fine giornata Che cazzo vuoi Come se io Vado alla Conad Ai nove di sera E chiede il pane Fresco Ma che vuole Questo Non avevo la licenza Ma che fa che Ho mo' Che c'ho la licenza Ma dai Arrivederci Grazie Scusi L'attesa Ma c'è della clientela Nuova Signore Non l'avevo mai visto 5,99 È da queste parti Arrivederci Lei Lavora qua dietro I cereali Che c'è nico questi Sì Te pagano male 5,99 Bene Arrivederci Non riesco a trovare Ciocopic Dei cereali Ma come no Ah frate Non rompe li coglioni Dai 5 dollari Ciao Ma quando chiude Quando finisce Sto giornata Mi hanno segnalato Floriana Grazie Elias Grazie mille Per il prime Grazie mille Zio Verello Becco Erbanna Tutti il cottello Manè Verello Hanno beccato Che c'ho la licenza Per la vendita Senti Un attimo Un attimo Aspetta un po' Chiudi sto cazzo Locale Allora Devo Devo prendere La licenza Livello 3 Ok Ora posso farlo Fatemi comprare Questa stracazzo De licenza Ho Acquista Per cortesia Ho 9 prodotti Disponibili A otte Botte Stroppie Che vabbè Per 18 Mi spezza Quella è 18 Quella è 18 Si fa più una cartolibreria Senti Oh Non dissare il mio Per favore 200 euro Palla la licenza Sì E mo che cazzo Compro Qua c'ho 61 dollari Oh Vabbè Piamo l'acqua 15 dollari Ok E Che potemo Piare ancora Possiamo Piare uno De questi Costa poco La farina Che costa poco 61 dai Viviana Basotto a te Carina Grazie mille Per la sub Grazie Compra anche la licenza Per stream I latte C'è zio 3 No Non me di Non me sta di Ok Il tè nero No costa troppo Non mi posso Permette C'è una ventina De le uova No Cazzo Non va bene Le uova Sono troppe Le uova Oh 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 Zio Perello L'olio L'olio Potrebbe essere Il pane a fette A fettenderi Il pane a fette Già Perché posso prendere Ciao Sara Spero che le persone Su tiktok Siano venute qua Sinceramente Il tè nero Costa troppo Serve il frigo Cazzo Davvero Dove metto il latte L'immagine E bollette Porco tu E come serve il frigo Ma l'olio Non lo posso prendere L'olio Santatrezi O tre Non posso prenderlo Una cosa che costa poco Dai Quanta cinque Fede di o no Sedici Formaggio Oh Mamma mia Preciso Preciso Guarda No Come tre Ah Sì Dai senti Fammi così Acquista Acquista sta roba Come chiuso Vaffanculo Va Quattro ore Parco due Ciao Just Stefi Grazie mille Ho anche l'altro obiettivo Chi cazzo aveva visto Meno male mai detto Ok Tè nero Ok Bene Vediamo se sono rimasti Nel carrello Sono rimasti Nel carrello Acquista Perfetto Giustamente Perché De notte Chi è che mi viene a portare i pacchi Veramente Non prendere roba da frigo Se non hai il frigo E che cazzo ne so io Frate Grazie Mafono Grazie Mafono E il milk Mondo Madonna Mettemo il milk Pronto Adesso Che siamo su un frigo Ho capito Ma quando cazzo Mo Dicheno Acquista un frigo Uno scaffale Chiudi Chiudi Lascia Vabbè ma se lo lascio qui Mese Mese Cosa No Fammi un po' Vedere Mercato Arredamento 200 Dollari Ma vaffanculo Ma come 200 dollari Ma zio perello Questo che è La farina Senti Andiamo Andiamo a vendere la roba E fammo due spicci E poi Niente 200 dollari Sì Inferio Storia Guarda Ho stato per metterci Torta un'altra coda Aumento i prezzi Aumento un pacchetto Dei cosi Ah veramente Oh ma l'acqua Posso mettere qua Pure l'acqua No rigata Pure l'acqua Oh 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 Zio perelli Andiamo a far subito Lì i sordelli Oh 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 Dei biancorpelli Poi la luce E poi i sassi Eh la luce Ho spenta la luce Sì Oh i bollette Frate Cazzo Ma anche i bollette Posso pagammo Banca Prestito Minchia Posso fare pure In prestito Sì Sì o no Te prego Non la posso fare Fatture Due dollari Le fatture sono state pagate Sarà questa no Vabbè Facciamo pure i sordi Ah oh Entrate a comprare qualcosa Pezzi di merda Io se fossi Io se fossi Dietro a una cosa A un supermercato Grazie Catti Grazie mille cinque pesi Ho aperto Ho aperto Dai signor Che deve fare Sotto c'è i nipoti Su 5 dollari A rivederci La speretta Su wife Che piglia qua La farina e il pane Piglia Piglia tutto Mi sei venire i sordi Per Brava Che ha la carta Bravuna 11 e 77 La rica Ma che azzo Qua Che se no Mi viene più nessuno Mi viene Arrivederla Io ci lavoravo E pensavo solo Che cazzo Entrate pezzi di merda Totale Poi quando non è il tuo È il locale Proprio esattamente Quello che pensi Sbariggia tutto Frate Grazie 15 dollari 54 Non c'è il frigo Frate Pagatemi Questa è una cazzata nera Oggi 8 dollari 5,6 7,8 E 23 centesimi Rivederla Katie Perry Ormai cliente fissa Comunque Katie Perry Mo' gli amenamo Eh Gli amenamo Perché voglio dire Noi poi Da 50 euro Per 4 euro E 95 59 Allora 40 5 Poi 41 5 10 Ah Ridammi i sordi Rimuovere 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 E no se clicco qua Ma aggiunge So continuo a mettere 5 Vabbè 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 vattene Affanculo Che ti fai mortacci Tu mi dovresti tattere I sordi Pure questa Britney Spears Ti poveri Porco 2 Paravo io Con i capelli biondi Così Vabbè Vabbè 1 dollaro 1 dollaro E 23 10 20 Non lo so Lolla Ma non Non mi sento di volerlo provare Oppure Di chi contanti Ma chi è che paga chi contanti Al giorno d'oggi E 23 1 2 E 3 L'ho perso dei centesimi Oh quanto stiamo 82 C'è Mamma mia Regà Allora la cosa bella È che qua Non possiamo Cioè devo comunque Ordinare anche la roba Da mangiare Non è che posso far così Capito Salve pane Olio Grazie col contante Signore grandioso Preciso però Sto giro Non hai trovato il formaggio E vatta Piagona Da signore il formaggio Che ti devo dire Guarda quest'altro Guarda quest'altro Guarda sto pezzo De fango Guardalo 41 Arrivederci Questa è sempre Quella carrucca Diversa Eh Non c'ho più niente Da Lo so Però volevo Prendere i soldi Non posso Accumularli Vabbè Che devo fare Signore Io una so Non è che posso Sdoppiarmi Il pane Perfetto Ci penso io 4 Arrivederci Eh Male male Rega Male 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 Allora Uno Due Tre Quattro E Cinque Piamo il formaggio Così non cagano il cazzo Vai Acquista Il frigo Compramo tra due anni O compramo Arriviamo Motherfucker Oddio No ha pure il formaggio vuole il frigo sono sbagliata zio Perio il formaggio vuole il frigo zio Trenio ma quanto sono incoglionita mannaggia la putt... eh signori la prima che cosa che non c'è sta più vado lo scaffale non capisco mi andate un attimo ho sbagliato pure lo scaffale zio Perio mannaggia che nervoso ah sta giornata non è andata bene sta giornata non è andata bene eh non è andata per niente bene guarda tocca a fan prestito frate tocca a fan prestito vedi come te come te portano come te portano a vive le banche ma perché me lo mette sotto se indico sopra che di pè pure oggi al supermercato viene a romperli coglioni mamma mia oh e fatte una spesa una volta a settimana tutti i giorni qua sta a romperca veramente arrivo pure a battona di ieri aspetta capra mamma mia c'è la fila ma veramente ma ce la vede in con ad una cop che ne da qua dovete venire a romperli coglioni a fare la spesa mamma mia oh cioè sto da sola con due pezzi in croce tutti qua sta a fare la spesa avrò i prezzi buoni che te devo dire eh il pane il signore il pane via questo un altro pane che te devo da qua un euro ti ha arrivederci questo il pane il cosa col cazzo non mi ricordo ma che ho più che ha preso 8.02 arrivederci e grazie anzi non arrivederci mai più e ripari pure oggi hai preso farina e olio che cazzo ce farai boh non lo so e pentole che cazzo le cose di ceramica ce fa lei fa la farina all'olio però meno male che pagate la carta guardra guardra 45 arrivederci e grazie Bruce Willis buonasera 78 centesimi Bruce Willis mamma mia 6 7 8 arrivederla ma questa l'ha fatta mette paura ma che è pare come il pezzo di costo non l'ho segnati ma davvero fai ecco perché c'è questa fila ma come non l'ho segnati sì ma sono tutti prezzati questi buoni un attimo scusami un attimo ma come non l'ho apprezzati l'ho apprezzati sì ma che sta di me sta a fa' piai corpi me sta a fa' pia ma riecco l'olio la cosa bella è che hanno finito tutta una da voda cioè 459 un'agonia signorina pure lei a comprare roba qua sti prezzi incredibili eh 5 26 27 28 arrivederla pura gemella c'è ma questa che glicciano i capelli guarda che cazzo è un dito ma vabbè ci posso ci posso credere 11 e 54 prego arrivederci mamma mia signor bello sto colore dove l'ha preso dove l'ha fatto basta mi avete rotto gli coglioni enter finisci giorno basta chiudete andatevi un affanculo a casa non voglio più vedere niente oh 200 dollari ho fatto posso mettere il frigo però poi posso comprare i prodotti e metterci dentro ciao scorpio sì ma mi ha con io perfetto sono rimasta con 12 centesimi insatti ma secondo te secondo te se io adesso ci metto questi entrano sono scaduti che stanno qua da ieri cioè mi sono tipo esplosi sono fatta la muffa il latte totale oh 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 caramello ma perché la devi mettere laggiù sta cazzo di acqua ma quanta acqua ho preso ma c'è credo che non c'ho più niente ho preso 10 litri d'acqua questa che è a milk capire il milk è nato malissimo proprio completamente completamente male vabbè oggi è il giorno no vabbè lo vedi che so cojona ho cliccato dai mi sono presa due cose vabbè non ho parole non ho parole due cose del latte e due cose del latte vabbè oggi sono prodotti da frigo ragazzi che devi fa acquista una nuova sessione usando il computer per rispandere ma qual è rispandere il mio negozio che c'ho 2 euro c'ho 12 centesimi sul conto ma che cazzo devo espande i prezzi ok l'acqua prezzo prezzo medio l'acqua 3 euro e famo 3,50 frate conferma qua il formaggio e famo 4 euro che problema c'è oh c'è i prezzi sovrapprezzati il latte 2 euro 3 euro dei latte tutti eh che dite prezzato effetto buonasera vengono vengono prezzi migliori del quartiere signora vieni 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 penso io a te signora vieni ma tutti molto sobri stiamo a harlem qua a new york mi sembra proprio questo il quartiere 10 dollari al pezzo subito si a voglia infatti no poi proviamo così senza prestito regà i prestiti sono buoni 2 dollari ciao panfasa ma regà più alti di così poi esagero no 39 23 allora 30 5 6 7 8 9 ma non è possibile togli indietro elimina ma se sbaglia da resto ma vion del culo e ma ho miscliccato ma come se fa dai cioè vaffanculo vattene a cagare la pasta o te la vai a mangiare al ristorante con tutti i sordi che t'ho lasciato stronzo trova la pasta non trova 9 punto 50 ancora con sta pasta c'hai il latte che cazzo vuoi e il latte che devi beve chiede merda ciao arrivederci questo dimmi se si può pagare un'acqua una boccetta d'acqua con 100 euro io muoio un culo e resto io muoio un culo e resto non muoio faffan sennò facevo cazzo guarda cazzo te me guardate meca la carta mi posso un culo ai sordi comunque non muoio faffan eh lo so ma quello mi dice il prezzo del mercato il prezzo del mercato io aumento sempre rispetto al prezzo normale del mercato quindi c'è già così c'è stava guarda quest'altra pure 37 6 7 e 42 lo sta attento e qua faccio cappellate non posso più tornare indietro cioè più che altro non lo so fare senti 56 euro ciò che mi devo dare guarda pure quest'altra questi cazzo 50 60 70 71 dollari ma cannate un attimo per comprare la roba comunque non sta più a pagare nessuno che la carta arrivata solamente questa dopo non si sa quanto Bruce Willis estate buona come ho finito tutto qua frate e dai prodotti aggiungi 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 vediamo un attimo che cosa posso inventarmi 100 dollari ce ne avevo 96 ma pure la spedizione ti fanno pagare mortacci eeeh l'olio che cos'è che c'avevamo eh l'ho visto france ma non non mi funziona non mi funziona cosa posso togliere 2 dollari e vabbè tolgo la pasta frate che devo fa non c'ho più niente è in early access e dammi madonna che ansia comunque cioè veramente l'ansia ti vive datemi un attimo vi prego le casse sono piene ho capito sì ma io veramente è fuori di testa sto gioco le casse sono piene tornatene a casa vai a fare la spesa alla copp non lo so levati dai coglioni vai qualcosa a mannato gli stronzi che stanno mamma mia rega veramente qua c'avevamo un dollaro meno male levati dal cazzo ciao questo è il formaggio ancora qui con tanti state vediamo corco perfetto ciao lei latte formaggio e pane la cena di stasera eh sì lo so grazie arrivederci e la carta pure lui pure il fratello grandioso 11 dollari e 50 arrivederla grazie la cugina dei gedi che me paga i moneti arrivederci il signore col pane me paga con questi perfetto grazie arrivederla 4 sì comunque è assurdo che non mi faccia tornare indietro quindi immagino che un modo ci sia ma non ho capito quello che mi fa vedere non funziona 96 50 5 10 5 6 arrivederla non si vede più un cazzo l'acqua due bottiglie d'acqua 7 euro arrivederci grazie il signore una bottiglia d'acqua spero non con 100 euro arrivederci Britney Spears dei poveri con questo 7 dollari 5 6 7 e 32 a rivederla non si vede più un cazzo scusi un attimo praticamente non pagherò niente dei bollette qua non c'è mai la luce accesa è capito cioè già i prezzi mi sembrano abbastanza alti cioè non lo so mettermi a a dare a alzare i prezzi mi sembra un po' eccessivo la farina la card perfetto 10 dollari e 54 arrivederla signorina questa c'è da di galera questa tutta arancione mandannata la faccia ce l'ha eh la faccia un po' da da drogatona ce l'ha a me sa eh arrivederci you need a cashier completed ah ho bisogno di un cassiere dici eh frate che te devo dire allora non posso ordinare niente che adesso sono chiudi acquista una nuova sezione usando non ci interessa eh richiedere prezze pagamenti indietro gestione forse cazzo devo pagare l'affitto io pero mamma mia se telefonando io potessi di addio non ci stanno ancora chiamerei altissimo ancora un pacco fuori merda i giocopicchi mettiamo sì dom'è è possibile allora che ci avevo 108 euro dai 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 allora non c'è più un cazzo no confermate non c'è più niente il pane a fette c'è l'olio un po' la farina manca i giocopicchi basta allora cose importanti l'acqua la farina la pasta e uova latte possiamo mettere una cosa in più cazzo che mettiamo una fette c'erano queste pure a fettinderi caffè andiamo a 126 euro col caffè ma che cazzo in corpo l'acqua ormai siamo allora andiamo così senti non sprechiamo tutti i soldi per forza non c'è bisogno manteniamoci in fondo manteniamoci in fondo dai il latte va in frigo perfetto latte qua sopra guardalo bello primo è classifico ma perché mi danno due bocce di latte ma quanto ne pio questo caferari ci viene a fa spesa qua poi le uova le uova bio ok questa non ce l'avevamo l'altra volta sì comunque c'ha dei prezzi senza senso allora mettemole qua che pare che ci sta un po' più decoso pieno perché veramente pare veramente lo quale sia lo quale oh la faraina ok la faraina presa e l'ultima è l'acqua in teoria se non sbaglio evidentemente l'acqua vedi me la fa mettere mi fa prendere una scatola ma mi riempie due ripiani se vede che c'è che so grosse allora il posto fa cagare ma ehi iniziamo a lavorare fa anche rima prezza le uova zio pero c'ha ragione aspetta le uova allora 4 dollari e a prezzo di mercato siete sicuri perché a me mi sembra costo medio prezzo di mercato c'è vedi un profitto di 2 dollari comunque che può stare mi sembra un po ma ragazzi ma mi sembra alto alzare i prezzi 4,50 tipo l'acqua a bersamo tutto allora che cazzo ce ne frega a noi alla fine a noi che cazzo ce ne frega 3,50 la roba da frigo costa di più il frigo serve l'elettricità per mantenerlo ok l'olio bene arrivederci la signorina direttamente da dallo scienziare come si chiamano dal posto di ricerca dollari arrivederli arrivi dollari la bolletta costa del frigo eh dai acquista una nuova sezione comunque dopo devo sbloccare questo ma non c'ho i soldi per pagare un cassiere frate ce l'ho proprio da malapena riesco a sostentarmi la posso fa allora facciamo l'ultimo giro e se volete ha finito l'ultimo giro qui siamo andati sull'altro gioco finché la vicina non ci bussa finché non sente le urla oh mamma le canzoni d'amore sono meglio sonate e sta a cacciarri enti questo insiezione inspiegabile successo di questo tizio si veramente completamente casuale una cosa completamente casuale Il fatto però è che ad oggi Fai successo solo se qualcuno ti vuole Pia per culo, capito? La cosa brutta è questa Cioè, parlamosi chiaro, non è così E ma infatti lo sto rivendendo al doppio Non l'ho messi al doppio? Non l'ho messi al doppio Cioè, profitto di 90 Minchia, mia madre c'ha un negozio Minchia, a base la so Bisogna caricarci un po' Ma se io lo Cioè, lo pago 90 centesimo Lo metto 3,50 Mi sembra più che profittevole la situazione, no? Anche troppo A Federi, grazie A Federi Grazie mille, ciao tesoro Grazie per gli hot maesi Ed è qua Cosati Pius Reb Travari in Casa 5 Mi piacerebbe trovare Una spesa intelligente D'euro spin, tu No 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 Non deve aggiungere Mi toglie Ma lo vedi che non lo fa Oddio Oddio signore, grazie Oddio signore, grazie Ma ho capito come si tolgono Mozzitti, va Mamma mia per un attimo Mamma mia per un attimo Mamma mia per un attimo Come ho sbiancato Madonna, pensavo di giocare A un gioco tranquillo Stasera Stasera dai, vabbè Facciamo una cosa tranquilla Panico Panico Manca un zucchero e vele Va t'appia Coppa Va t'appia Ma loro Simbiosi, guardali Si è buggato Il gioco costa 10 euro Il gioco è intelligente Ammazza, ha fatto spese di fioli? I fioli 1,51 1,52 Arrivederci Orange is the new black Quanto tocca dai a orange? Nada Mai cose tranquille Mai Mai Never Ok Pagamo 15 dollari Dollari 98 Oh C'è gente nuova nel quartiere Ma perché te sei stato Do cazzo Stavi dentro casa tua A portarmi 100 dollari Del fumo Dalla droga che te venni Eh Per farmi cambiare a me Messa dai soldi di farsi Totale questo Totale Totale Messa dai soldi di farsi Ah Signori mio Signore 96 23 Aspetta Che è buio Grazie Zappo Grazie mille baby 13 mesi Thank you Thank you La spesa Intelligente Ricordo qualcuno Mi riesco a ricordare che Cazzo si chiama Lazzaret Questo gioco Beh Vorrei sperare di no E un vero simulatore Ad un tratto Arriverà un certo Don Peppe Per chiederti parte Dei tu profitti Hai ragione Cazzo Aspetta un atomo Il Signore ha detto Ce vuol Di Grissinbon 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 Oggi porta in tavola La novità Due a due Confezionate Son le fette Biscottate Grissinbon 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 Con i gongoli Croccantica Son tanto appetitosi Ogni schiacce Fornarelli E i gustosi Fagolusi Scucci Fatta staritte Friramente Cazzo Meglio di Boh Harry Potter Potrebbe essere La nuova colonna Sonora De qualche fantasy 9 dollari E 42 Questo è il maggior domo Che è venuto a fare Spesa per qualche Famiglia ricca Ti hanno dato 20 euro E te Ti devi d'aiuto Da 3 E 50 E 50 1 3 Arrivederci Farina e uova Va bene 2 e 23 E' pazzissima Ma da culo E' ma da culo Mary J Con 20 abbonamenti Salva Staserata La salva In calcio In calcio In calcio In angolo Mary J Has gone away Let's gone away Grazie mille Facciamo un wall of love Per Mary J Tanti cuori per Mary Tanti cuori per Mary Grazie Piccola Mary Maronna la piccola Mary Maronna la piccola Mary Grazie piccola Mary Mamma mia Quanti 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 cuori Quanti cuori Grazie 16 16 Grissi No Ti ho dato di meno? Grazie Lionel Grazie mille Anche a te Per la Sabina Regalina Grazie mille Grazie mille Piccolini Per i Sabini E tanti agoni O almeno da qualche parte Guadagno qualcosa Entra su questo supermercato Sto a una banca rotta Zio vero Guarda Vabbè 300 totali Stasera ma va bene Ciao Marti Stai imbruttendo quello Può essere Mi stanno tutti un po' a brutti Sennò percorsato i prezzi È possibile No le live siti TikTok mi è crashata Ma non capisco perché Perché non mi è arrivata neanche Nessuna segnalazione di ban Non capisco Attività E le attività Non mi dice niente Mi si è disconnesso Ma ha detto Mancanza di rete Ma come mai Però non mi ha segnalato niente Cioè solitamente mi usciva Un Un coso che mi diceva Sì sei stata bannata Ciao ne si vediamo tra un mese Però Cioè era veramente impossibile Impossibile no Perché TikTok È Dissima che faccia qualsiasi cosa Però È troppo strano Con Un gioco del supermercato Così Troppo strano Senti Enter Finimo il giorno va Oh I prezzi del mercato Che mette per i seguenti prodotti Va bene Mamma mia Regà Mi hanno svuotato Il supermercato Frate Mi hanno svuotato la vita Proprio ma adesso Abbiamo abbastanza soldi Per comprare Una parte in più Di negozio E mo se divertimo No questo non è horror Sì Stasera E ieri sera Stiamo facendo delle salate Un po' più tranquille Carine Ma più tranquille Dell'horror Perché abbiamo giocato A un horror Pesantissimo In questi ultimi tre giorni E non gliela faccio più Pefona Pefona 5 sub E si va a 60 60 sub Di oggi Grazie mille No regà Io non ce la faccio Grazie Grazie anche Nicoletta Gestenomy Grazie mille Belli Grazie mille Allora Gestione Fattura Minchia Dopo capire No mi frega un cazzo La fattura Sezione 2 350 acquista Oh E morido E morido Sempre Codomo Su Twitch ragazzi Codomo C-O-D-O-M-O Ok Mi sono avanzati Comunque 183 dollari Paghiamo affitti Cazzo è massimo 20 euro Grazie Piccola Fefona nazionale Grazie mille E possiamo Andare Direi A comprare Della roba Per oggi Perché non c'abbiamo più Un cazzo Chinito Pet No Chinito Pet Non era pesante In realtà Dipende A una certa Ho fatto un po' Un po' Paurina Ma più che altro Perché non sapevi che cazzo Stava per succedere E a una certa Pensavo veramente che Che mi si Che mi stesse facendo Dei danni al computer Per un momento L'ho pensato E invece poi no Ma comunque Cereali Fette inderi Pasta Farina Eh ma qua È tostarella signore Olio e forza Ciao Oh cannexone Costa assunzione di un cassiere Non lo so Ma penso che Dovremmo farlo Però per ora Me la gioco così ancora C'è da dire che C'è da dire che Non c'ho più una lira Aspetta Fammi vedere un attimo Una cosa Che mi è rimasto Qua Mi è rimasto Oh mio dio È più grande Ma è più grande Ma wow Oh mio dio Ma mettiamolo qua Questo un attimo Scusa Abbiamo ampliato Il nostro indianino E fammi una cosa Fatta bene Grazie Ili li 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 Grazie tesoro Grazie mille Piccola li 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 Non lo so come cazzo Sto a mettere sti cose Sinceramente Va bene così Abbiamo il tè Quindi il tè non serve Il tè non serve Andiamo a togliere il tè Tè via Ok Va bene così Se vediamo che manca qualcosa Poi ce lo andiamo A rimettere Non problema Ecco qua Vedi come si fa A consegnare Ma poi cadono tutti i scatoloni, eh? Il caffè. Il caffè della mattina non si... No. Il faffè della feffina. Ma cazzo faceva la canzone? Il caffè della peppina non si beve la mattina. Ne col latte, ne col tè. Ma perché, perché, perché? Il frappè. Ok, sta canzone è dell'antiguera proprio. La conoscete? Lo zecchino d'oro. Mamma mia, regà. Esiste ancora lo zecchino d'oro? Fanno ancora lo zecchino d'oro? Ah, Giacomino, grandissimo! Grazie mille, tesoro! Cerchiamo di rendere equilibrato. Oh, ma guarda che upgrade che io ho fatto a sto posto. Sì, esiste ancora? Assurdo. Grazie, Lilium! Benveni un, due mesoni. Grazie, tesoro. Grazie mille. Grazie milloni. Le sciocopigipi. Sciocchigipi. Dici, impossibile non conoscerla? Allora, c'è i momenti nove dollari, quindi direi che è giunto il momento di aprire il negozio per farmare un po' di soldi, perché è veramente... Ah, trasportare. Aspetta, ma zitti un po'. Ma qua gli fa male male, gli fa mio. Ma gli fa mio male male. Non posso più entrare, però, così. Ah, oh, eh? Come di prezzo di mercato, cazzo, hai ragione, qua ma ce n'è più nessuno a comprare roba. Prezzo di mercato, cinque, e conferma. Questo, otto, dodici, va benissimo. Questo, tre euro e settanta. Ah, merda. Mettemola a quattro, frate. Confirma. No, no, non mi può guardare mentre... Micchia. Cioè, fratello, sto a perdere una cifra dei sordi, sto a perdere. Questo sta... Quattro e cinquantano, prezzo, quattro e cinquantanove. Il suo mercato è quattro e cinquanta. Mettemola a cinque pure questo. Chi vese schioppa. Il pane. Il suo mercato è quattro e settantacinque. Pure il pane. Il pane ha cinque e venti, perché il pane serve. Scusi, devo cambiare i prezzi. Posta troppo. Posta troppo, lo vedi? Se stanno alla mente i clienti, fratello. No, no, sto a fare veramente i danni, sto a fare. Posta troppo. Ma se comprano un cazzo, sti stronzi. Lo vedi, raga? Sto esagerando, dai. Cioè, sto peccando di avidità, eh. Sto peccando di avidità. Non riesco a trovare zucchero a velo. Allora, cinque dollari. Oh, so, raga, ma qua tocca guadagnare. No, l'abbasso, dai. Tocca comunque abbassarli, perché se no è troppo. Ma perché? Allora, l'altro gioco... Ieri ci ho giocato. E tutti... Ma hai messo i prezzi troppo passi. Ma cosa ci farai mai con questi prezzi? E non fai una lira. Vai, chiudi bottega. In fallimento. E dico, ah boh, a me mi sembra giusto. Alziamo un po'. Mo' pare che stanno a comprare le cose in autogrill, cioè... Mi devo dare questo. 80 centesimi. 50, 60, 70. 80. Arrivederci. Non lo so, eh. Mi andava di farlo Emiliano. 16 dollari. Mamma mia, che nervoso dai il resto comunque. Veramente. Che coglioni. Arrivederci. Cagata, meno male, va. 4 dollari. Fammi rivedere un attimo sti cazzi dei prezzi. Allora, il prezzo di mercato è 5. Io ne metto a 5,99. Allora, lo mettiamo a 5,50. Dai. 5,50. C'è, 5 euro. Ma perché me devi cacarca? 5,70 almeno. Allora, Davidone, grazie mille. Davidone, per gli otto mesi. Grazie infinite. Prezzo è 5,20. 4,90. Dai, 4,90. Non mi rompete lì con io. Ma questa quant'è? A madre, 20. Vabbè. Il pre è 7 euro e tanto. Effettivamente, 7 euro e tanto. 5,90. Però vedi come se lo compro il caffè la signora, però, eh. 4,70. Questo va bene. Eh, sì, dai, va bene. Dai, mettemolo a 4,59. Che si prezzi a supermercato. Salve. Salve. Buonasera. I giocopichis. Con la carta, grazie. 22,50. Altrude c'è una famiglia, c'è dei figli. Dovranno pur mangiare. Non si vergogni, però, se a comprare latte così, eh. 3,50. Arrivederci. Oh. Si è incastrato tutto qua. Vediamo un po'. Allora, 3,98. L'ho messo 3,5. 4,20. Dai, 4,20. Su, mamma mia. Stanno alla metà. 3,5. E 3,30. Allora. Che cosa scuodi il capino, zio Pero? Che cosa scuodi il capino? 2,55. E mettiamolo a 3 euro. Che problema c'è? Ho basato tutti i prezzi per voi poveracci morti de fame. Guarda. Grazie, Vale Cri. Grazie mille per la Sabina Regalina. Grazie, tesoro. Scuode la stronza, scuode. Andatevi a lamentare con lo Stato. È colpa dello Stato che mi fa pagare le tasse. Sempre io che ho pagato 20 euro d'affitto. Solo 20 euro. L'acqua in bottiglia costa troppo per te. Beve te l'acqua di rubinetto, signora. Non è che te la devi comprare per forza minerale l'acqua, eh. Quanto ti devo dare a sta stronza? Niente, arrivederci. Guarda, guarda, la vecchia bacucca. Te compri l'acqua e te compri la farina. Te ingrassi e poi voglio vedere io. Che me ti devo dare a questa? 3 euro. 3 dollari e 50 e 2 Ma che occhi ha? L'acqua è del sindaco, c'hai ragione. Sono tirchioni. Guarda il signore che è infanfiato. Ma veramente l'acqua l'ho messa troppo alto. Non mi ripete quanto costa l'acqua. 3 dollari e 58, via. Ah, signorina, i giocoscrivi? Grande. 4 euro e 50 1, 2, 3, 4 e 5 Arrivederci. Non avete sta cazzo di acqua che mi rimane sempre qua? L'ho messa troppo alta? Minchia, l'ho messa 3, cioè va bene, 2,70 Sì, vatta a comprare l'acqua, va. Aspetta che c'è una luce, coglio. C'è una sega. Dovrei comprare altri scaffali ma c'è una lira per comprare le cose. Ci ho finite le ova, l'unica cosa che costava poco. Infatti se la so comprata tutti, guarda. Perde pecunia? 1, 2 e Senti Arrivederci Ah, Miss Italia stasera Arrivederla Non riesco a trovare l'olio È finito, signora Siamo a fine giornata Veda un po' lei Oh, ecco il meccanico di zona, va Che te compri? Pure stasera si mangia cereali? Per colazione? Ah, vedi come si accatta l'acqua? Mi sembra abbassato troppo il prezzo Il gioco si chiama Supermarket Simulator Sì, sta a finire tutto, regà C'ho i scaffali vuoti Ma d'altronde del resto Qui, cioè Finisce la giornata Mi stanno a svuotare i scaffali E domani farò un bel carico di roba, ragazzi Eh, ho capito, Vale Ma devo guardare il prezzo di mercato Il prezzo di mercato qua è altissima Tutti i prezzi sono assurdo Tacci tua Debian Corpo 100 dollari Ti hai comprato Che t'hai pagato? T'hanno pagato il fumo Questa è una spacciatrice Sei? 100 dollari Debian Corpo 50 70 80 1 E 50 Vaffanculo Nessuno prende il caffè? Hai ragione Come mai? Troppo alto? Vabbè, hai ragione Ma perché sta a 12 dollari il caffè? Ma come 12 dollari? Ma zio treno Ne credo che nessuno Sopo compra Porco 2 Oh mio Dio 15 dollari Inchia 9 Oh no Grazie Darione Con i tre mesoni Grazie tesoro Io devo dare questo 1,30 euro Senta Arrivederci Niente Cose svuotate Arrivederci Non riesco a trovare del nero È finito signora mia È finito Ah Eppure oggi St'aggiornata è finita Va Senti Non posso comprare niente Vedi? Ma poi andiamo Non ho svuotato tutto Grazie Pierperini Grazie mille Per i 20 mesi Ciao tesoro Grazie mille Minchia il caffè Vivi in Italia Il caffè a 12 euro Penso che la gente Comincia a indebitarsi 5-10% è meno rispetto al mercato Ma vedi che allora avevo fatto bene ieri Gandix e zio Pera Ma no Codomo È troppo basso il prezzo Non fai nessun euro così Bancarotta Biancorpo Allora dai Buonasera ragazzi Ben arrivate Devo comprare Un altro scaffale Un altro frigo forse Vediamo Mercato Arredamento Oh guarda qua C'è un freezer C'è un punto luce addirittura Una cassa Oh che cos'è questo 200 dollari Sta cacata Ma che siete pazzi Non scaffare 200 dollari Ma io che ce vado a comprare Faccia la spesa Vabbè ma hanno rotto tutti gli coglioni Oh sto giro guarda Piamo tutto Guarda Piamo tutto Di tutto Di tutto Di tutto Di tutto Guarda Tutto Proprio Tutto Fiamo una bella Come massimo Mi sono fermata le ova Vabbè acquista questo Intanto Le ova Questo cazzo Sto ne ho Ah e questo E questo Mamma mia Ricato Non voglio guardare Cioè adesso noi usciamo E c'è sta Un wall of scatole Proprio Guarda Ma i mortaggi Tu Ma questo è Bartolini Ma che cazzo Ma che è normale Sta roba Mamma c'è H Nelle macchine Ma guardate Oh Ma questo è DHL E' altro che Bartolini Zio Pero E' DHL Quello che me odia Mi consiglia mai i pacchi Ha visto che mali Mortacci Vostra I pacchi in mezza Oh Non è super Mare Mamma mia La guarda Veramente Guarda 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 Oh il pacco mio Ma l'acqua comunque c'è Ieri costava 12 euro Senti Richiudi Chiudi E lasciamola qua Momentaneamente Ma roba da pazzi Scusi signore Mi faccia passà Roba da pazzi Guarda Roba veramente da pazzi Grazie Swing Mary Grazie tesoro Grazie mille Lasciamo aperti così No dai Chiudi Vabbè Lasciamo aperti Chi vese in cura Cioè guarda come c'ho Sti pacchi oggi Non mi inizia più Stamattinata Frate Veramente Non mi inizia più Mi piace il rumore Che fa Comunque Oh il tè Buonasera Le di letto Le uova sono rotte Sì Andiamo via Così Pare un calabrese Che ti spiega qualcosa Oddio mio Tanto Lasci Aperta la scatola Ai clienti Ah possono prenderlo Davvero Grazie Piro Il gioco costa Mi pare una decina D'euro Niente di Incredibilmente Incredibile Grazie Pirone Mamma mia Rega Cioè veramente Ma altri cereali Ho preso Ma quanti cazzo Cereali ho preso Perché questi Mi sa che Senti ma Se lascio Scatola aperta Davvero possono Venire a Prenderli Oh vabbè Grazie Mary J Grazie baby Mary J E Mary J Sgan away Non so lo stesso account Però Sto confondendo Tutte ste Mary J Oh forse Oh forse potremo Ah era una domanda Beh allora Credo di no Allora chiudere Chiudi Perfetto G e posizioniamo Lo lasciamo qua Perché è veramente Atroce C E G Perfetto C E G Eppure questo Mettiamo qua Bene Oh ci siamo Scaffali pieni Mamma mia Mica tanto pieni Che potremo Piare Ancora Che cos'è Che va Mega ruba Vabbè Ci abbiamo ancora Delle altre cose Dai Open Hai ragione Posso metterlo Nello scaffale Ma quanto sei Vabbè Non dirò Che cosa sono Va bene E che Capito C'è un po' Il disturbo Ossessivo Compulsivo Ci posso Fa' niente C'ho C'è Odio vedere Lo scaffale Che rimane a metà Capito C'è Lo odio profondamente A parte che non c'è Il frigo Quindi questo Non lo posso mettere E Quindi niente Buonasera Gamba Cercano il formaggio Sempre sti scemi Eccolo qua Il formaggio c'è Non rompeste di coglioni Oh Buongiorno Mo Dovete ancora cacare i coglioni I prezzi controlla Ma vanno bene Su via No Dovete Davvero I prezzi di mercato Che coglioni Che coglioni Buonasera Se nessuno Se lamenta Vor di che ci stiamo Dai Arrivederci Ma questo Dovete Cazzo viene Dalla palestra Gym simulator Lui Sa dall'altra parte Comunque sarebbe Veramente bello Poter avere un gioco Dove puoi fare Tutti questi giochi stupidi Dei simulatori Dentro un unico gioco Sarebbe veramente top 23 e 30 Let's go Ari ecco la bardracca Corta tu Vado dietro Vediamo un po' Oh il meccanico Augusto Come stai oggi Ha tutto bene Te serve qualcosa Te sei rotto Il motore Tu sai che puoi venire da me Certo Come no Sempre pronti Tiente Posso far sconto Che c'ho più una lira Custo Arrivederci Buonasera Salve Buonasera Le do una busta No va bene così Grazie Dove cazzo dà a me Tutto Ah c'avevi quella che portavi Sì si preoccupi Va bene Ma lei un po' Ah lei è la bardracca Della porta accanto Che mi dà 100 dollari Mi dai Ah vabbè Però devo da 45 Ci sta 45 04 Mamma mia Io abituata un po' La cassa Io abituata un po' La cassa Perché dovete sapere Che mia mamma Ha un negozio A garbatella E quando ero ragazzina Durante soprattutto I periodi tipo natalizi Così eh Stavo sempre Ad aiutarla al negozio A fare la cassa Puntualmente Sbagliava da resto Puntualmente Quindi insomma C'è del trascorso C'è del trascorso È 35 E 29 Arrivederla Salve Sì Mi può dare il resto Sì assolutamente Certo Non c'è Non c'è bisogno del resto Scusi Mi sono sbagliata Salve Buonasera Sì Stasera Sa una cena con i colleghi Poi Forse andiamo a biraccarci Mi serve un po' di pane Va bene Va bene Bella storia Non sono chiesto Però comunque La ringrazio E una buona giornata A lei una buona giornata Ciao Tutto questo zucchero Sì perché mi ha lasciato Il fidanzato Questa è la sua carta Sto pagando con la sua Ah così Anfamata Sì Sì proprio così Ciao Raga Ma è che era Ferragni Ciao guys Sì Alla fine Alla fine Mi hanno arrestato E Sono venuta Ad abitare In il quartiere Del case popolari E Niente Devo comprare Il caffè Dall'indianino Guys Questa è la cattiva Questa è la cattiva Questa è la cattivissima Mi dispiace Perché è la Ferragni In realtà Cioè Ha fatto la merdata Ma un po' mi dispiace Eh sì 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 Tuccamenti i pandori Poverina Oddio 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 Tozzi Lei è quella che Tipo Allora ragazzi Adesso La vedi un po' scuretta Così che ti sembra Di un'altra nazionalità In realtà è romana De Roma proprio Ah ragazzi adesso Mi mettete Il metano Nelle Il CO2 Nell'O2 Nel Buio del culo Che te se frega Qua la carta signori Meno male 22 e 58 Arrivederla Salve Sì devo tornare a casa Dai miei Dalla mia famiglia Sono il maggiordomo E mi hanno chiesto Di fare la spesa Grazie Ma è questa la loro carta Quindi non mi chieda il pin Spero che la soglia Sia minima Senza pin Assolutamente signore Prego Arrivederci Ma la metto questa In realtà Altro che Altro che Ho la voce di Giorgio Meloni Potresti dirmi Che ho la voce di qualcun altro Per favore Perché Giorgio Meloni Potrei uccidermi Potrei ammassarmi Potrei buttarmi di sotto Per avere la voce Di Giorgio Meloni Potrei Questa è a Meloni Eh ma la Meloni Non me la ricordo Perché il mio cervello Rimuove quello che dice Il mio cervello Mi rimuove Le cose stronzate Che dice la Meloni E quindi non riesco Non riesco A ricordarmi Quello che dice In realtà basta Che parlo da sola Come noi Sono Giorgio Io sono Giorgia Sono una madre Sono una signora Li mortacci tu A Giorgio Meloni Pure il quacca Che il cazzo Mi dai 100 dollari Per 10 dollari De roba De più Ha un grandissimo corpo 50 70 80 E 90 Vaffanculo Va Mamma mia Ma che è Se sta a fa bu Ma che è sta fila Ma che è Ma che c'è Stanno i sconti De mezzanotte Qui Ma che è Ma che siete impazziti Ve siete Ma questa Compa 5 kg di farina Ma che c'è Deve fa Ha vuole Ha vuole spacciare Peccoga Per venderla Nel quartiere Mamma mia Ma dove sto A cazzeggiare Sto fa veramente Una fila Atomica Atomica Arrivederla E sto per Maggiordomo De casa accanto Pure 8 E 99 Una grande clientela Vedi E che oggi Abbiamo fatti i sordi Però dai Abbiamo fatti Ah no qua 31 centesimi Ok Oh Kanagawa Tutto a posto Fatti perito Che è successo Tutto bene 14 Arrivederci E Le casse sono piene Eh anzi C'ho i prezzi migliori Del quartiere D'altronde Del resto Che devi fa E 41 Do sta 41 Devi staccarmo Che mi viene l'ansia Non riesco a trovare formaggio Ma se tu mi vieni Alle 8 di sera Frate È normale che Cioè È normale che Stia al formaggio No che dici 26 dollari Zio Pero 26 e 01 Arrivederla Nelli furtato Qua che vuole Che la carta paga 11 Ok Arrivederci Due latti 6 e 60 Ah va bene Qua ce lo devo mettere Per forza Va bene Le casse sono piene Ragazzi Che devo Che devo fare Che devo fare 22 E 40 Prego Il prossimo Quanto gli paghiamo Al signore 23 E 10 Bene La ringrazio Una buona serata Arrivederci Su Jocopisk Per la signorina Mortacci 12 Come Giorgio Meloni 50 70 80 45 Ho sbagliato 5 6 7 8 Ok Cazzo Ok No Ho capito La resto 47 Nessun resto Arrivederla 4 dollari Per signore 1 4 Arrivederci Zio Pero Quante cazzo De persone Ci stanno A sto supermercato Mi hanno sfatato Tutte le tasche Tutte le tasche Tutte le casse Guarda Mi sto rincoglionendo Per carità De Dio Mamma mia 10 dollari E 30 Ah se faccio 3 Posso Oh frate Fatemi finire Sta giornata Vi prego Non gliela Faccio più Non entrate più Regà Vi prego C'è il negozio Voto Comunque si Un altro punto luce Lo metterei Più che altro Mettemo meglio Il suo punto luce Ma che dè Ha proprio Cacasta Sto posto Cioè Guarda là Che schifezza Mamma mia Regà Mamma mia Oh Qua così Eh Meglio Eh Ok L'acqua è troppo alta E mo vedemo bene Secondo me non stai guadagnando tanto Ma come Mi rompono il cazzo Che sto mettendo le Le cose troppo basse Che devo fa Allora T palace T nero E Finito Ma l'acqua non sa Compra nessuno Si Noi ce l'avevamo già messa Quindi La togliamo Perfetto Poi che cosa c'era avanzato Qua il milk Il milk invece Il milk Molla il milk Tocca S'attenti Ho fatto i sconti Eh Allora È rimasto Il pane Il Tutta l'acqua Il latte Uova Tè nero Pane Cereali C'è ancora Non do cazzo sto Anna in cassa Però come sto rincojonita Ragazzi Allora Arredamento Prendiamo Frigo base Ciao Cosa prendiamo Prendiamo uno scaffaletto Molto carino il gioco Si è vero Prendiamo uno scaffaletto Però aspetta eh Aspetta un attimo Perché qua Le licenze E lo vedi Burro da raghi Di farina Olio d'oliva Spaghetti Risobbasmati 400 dollari Non lo prendo Allora Eh si l'ho visto Franci infatti Compra una licenza Dai Compra una licenza Così si fanno Manno ai prodotti Nuovi Cassiere Prodotti Rip Sì Gestione Assunzione Pagamento Complato 150 Livello Richiesto 10 Non lo posso Non lo posso ancora Prendere il cassiere Non lo posso ancora Prendere il cassiere Compriamo Via Compriamo Allora i cereali c'erano Il pane a fette c'era La farina era da prendere La Vediamo le cose nuove Che ci stanno Il sale I riso Basmati Gli spaghetti Burro Un po' da arachidi Farina Olio d'oliva Bellini Tutti nuovi E poi una cosa Andata ruba È il caffè L'olio 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 c'è L'olio c'è Va preso E cos'altro Zuccher Formaggio Andava sempre a ruba È vero Allora Prendiamo questi Intanto E vediamo se Se ci avanza Qualcosetta Guarda che fide Puttana Guarda Mi mettono Sti scatoloni Supreme La farina Supreme Bene Che qualcosa Italiano Era giusto La pasta Un po' mai mancate Credo Spaghetti 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 Mamma mia Spaghetti Eulo Ma che spaghetti C'ho Mamma mia Cor font Comic Sans Come font Mario Guarda Cosi per le colazioni Burro da raghetti Mamma mia Si vola Cor burro da raghetti Eh frate Si vola fortissimo Allora Farina Non so se state guardando Ma sto mettendo Anche I scaffali Predisposti E divisi In un senso logico Cioè Non so se Avete Eh Fatto caso Aspetta Aspetta Metto qua E poi controllami I prezzi Tanto ormai Stanno qui Non è che Ci possiamo Far niente Sale Eccoci qua Col sale Andiamo a vedere Che casate Abbiamo preso Ah Navallo E il caffè E il caffè Lo schiaffiamo De qua Reparto Colazione Via Ce l'avete Da comprare Sorelli Fratelli Eh Ma abbassiamo Tutti i prezzi Non vi preoccupate Fatemi prima Disporre Ste cose Toglio Mene scatole Dal marciapiedo Ma poi Soprattutto Vorrei capire Un attimo Che si può Andare in giro A vedere La zona Presco di zona Sembra la pazza Ed eccoci qua Col formaggione Oh Mi sembra Molto molto vario Adesso Vediamo un po' Magazzino Ah Vedi Dobbiamo sbloccarlo Però Hotel Cioè abbiamo Il supermercato Sotto l'hotel No Vabbè Ma si può andare In giro Ma sto Mario Ma sto Mario Ma dove cazzo va No Ma che mi fa Fare le consegne Ma questa è Quella di ieri E che cosa Dovrei fare Però qua Sotto Mario Ho capito Ma non posso Fare niente Posso solo Andare in giro Vado a cercare La palestra Dici Torniamo Al supermercet Torniamo al supermercet E andiamo ad aprire Il nostro negozio Incredibile Ah i prezzi Porco Due Aspetta Close Allora Prezzo di mercato È 6 e 5 E 78 Quindi noi 6 e 60 No 69 Eh Fiamo così 10 centesimi In meno E dai Perché se no La farina 4 e 18 4 e 10 6 dollari 6 dollari Prezzo di mercato 5 e 90 Va benissimo Lo spaghetto Prezzo di mercato 6 e 62 Noi lo mettiamo 6 e 49 Un pochino di meno Del prezzo del mercato Perché se no Gente in viene Frate Vedi Guarda questo Quanto cazzo costa 6 e 91 Lo mettiamo A 6 e 50 Così Ho poche uova Lo so Poi le riprendo 2 e 17 Lo mettiamo A 2 euro 2 euro Qui sotto L'olio Sta 5 dollari E 68 5 e 20 L'olione L'olione 3 e 10 10 avevo detto Va bene Poi passiamo Alle uova 3 e 59 Lo mettiamo A 3 e 3 e 80 Va bene Il latte Sta a 2 e 72 Lo mettiamo A 2 e 69 Il prezzo Medio E 3 e 80 Lo mettiamo A 3 e 60 Bene L'acqua 2 e 18 La mettiamo A 1 e 99 Lo volevo Troppo fa Lo volevo Troppo fa Il burro Da ragazzi Sta a 5 e 40 Noi le mettiamo A 4 e 99 Zio P Mamma mia Te giuro Tutto a 99 5 e 10 4 e 80 Questo dai Un po' A costa uguale 4 e 90 4 e 55 Sto spazzata Sto parata Così A proprio A cazzo 10 dollari Nel caffè Arrivato Zio Piero 9 e 99 Ti piacciono i prezzi E offerte Da conad Si sconto tutto Frate va bene Va bene Con 99 Poi ci grevi Con il resto Hai ragione Va bene Apriamo Questo pezzo Di merda Di locale Andiamo Signori Venghino 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 Caffè In subopiano Come no Se costa tanto Non è Colpa Del Del mio Le notte 8 tesera Chiaro Ciao Gimmo La conad È cara Allora Burro Tarachidi Signore Si E latte Vedete Se dicono Qualcosa Loro Se magari Se lamentano Di qualche Cazzo Che ne so Così vuoto Non lo posso Vedere Questa è L'infermiera De casa De sopra 11 centesimi Arrivederci Lui è Palesemente Il ragazzotto De 53 anni Che vive Ancora Che ha Madre Che c'ha Un'ietta Chi Deschi Guardalo E che Si sente Una cifra Figo Però Si sente Una cifra Figo 42 E che Vena Spende 42 euro Dall'indianino Sotto casa Cioè Mi sembra Zero calcare Ciao Juventina Grazie Grazie mille Per i rosellini E i curicini Su tiktok Grazie mille Che so già Come prende Un sacco Di attenzione E ogni volta Faccio difficoltà Legge tutti Ho zucchero a velo Non c'ho Zio Perio Manca Ho zucchero a velio Mannaggia Eh vabbè Non l'ho proprio Comprato Lo zucchero a velo Si Il problema Qual è È che Secondo me Finché non arrivo A livello tale Da potermi permettere Un cassiere Quello che c'ho C'ho Quando finisce Finisce Sì Frate Va bene così Che ci devo dire Comunque ogni volta Che sbatto La barra spaziatrice Per dare il resto Sembra veramente Che sto in cassa A fare le cose È molto immersivo Questo gioco 1,92 1,92 Troppo Lo zucchero a velo Ma che c'è Dovete fare Con lo zucchero a velo Ma che c'è Dovete fare Con sto zucchero a velo Fammi annappiare Sto zucchero a velo De merda Perché sennò Capirai Chi è Zucchero a velo Che altro mancava Che altro mancava L'ova Fammi piare Tre ova Ecco qua Vai Fammi piare l'ova Mi sta l'ova L'ova Mi sento Dai cogliona Mi chiamo Mi sta bombastic Lavoro Al supermarcastic Cos'è questo Zucchero a velo Mazza Riga Hanno finito Tutto Già Tutto hanno finito Aspetta Fammi buttare Sto cazzo Scatolone Mo cominciano A riva tutti Vedrai Mi chiamo Mi sta bombastic Ma quanta cazzo Roba ha comprato 44 centesimi 1 2 3 4 Arrivederci Terzo ordone 2 dollari E 40 Arrivederci Grazie Buona serata 17 dollari 89 Guarda 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 Tutti adesso Vengono a saccheggiare Guarda C'è il rapsus Finale Proprio Ma che mi ha rotto Lo specchio Quello Sì Ciao Ma quante cazzo Ti ho buttato Lo delipede Mi prende Ma mica c'è sta Lockdown Sì Ma che è sta roba Ma che se può Ancora sconti Devo fare Sì Ho messo Tutta Un sacco Una percentuale Molto più bassa Prima Ma che ti devo dire Ma che ti devo dire Non è che I galline Stanno a fare Le ova Per voi 33 E 86 Frate Eccoci qua Arrivederla Arriva sempre in chiusura La gente Anche nei giochi 15 dollari E 79 Arrivederci Cassiera Leggermente Esaurita Un pochetto Un pochettino Attenzione Prego Attenzione Prego Eleonora In cassa Cinque Eleonora In cassa Cinque Grazie Magari C'avessi Una Eleonora Che mi fa La cassiera Ragazzo Solda sulla Comangane 333 333 Mamma mia Oh E' un segno Del destino Ma che si è presa La rebel Il vecchio 7 dollari E 21 Centesimi Arrivederla La pasta State chiudendo? No signora Stavamo aspettando lei Senti Vabbè Basta Mi avete rotto Li coglioni Ma poi ti fa Quadrare tutti i conti Tipo Con tasse Quadagni Così Vediamo Guarda Eccoci Ci mettiamo qua E andiamo a vedere Intanto Se c'è qualcosa Che va Pagata Gestione Fatture Vedi Ci sono delle cose Da pagare L'affitto Dei 10.000 Anni Arretrati Grazie Grazie Mela Grazie mille Per i Jing Maisy Arrivedergliela Non sto guadagnando Molto effettivamente Però io Sinceramente Perché sto mettendo I prezzi Leggermente più bassi Del mercato All'inizio Facevo così Poi li ho alzati Poi li ho riabbassati Perché mi hai detto Ecco Cose forse Bisogna rialzarli Comunque ragazzi Bisogna un attimo Sono del reparto Che è dal collega Allora Vabbò 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 Rivettiamoli Ora sei Eurospin E devi diventare Carrefour Vediamo Sulle cose più Ciao Legione Oh baby Eccolo Ho fatto l'abbonamento Legione È sempre piacere Seguire le tue live Grazie baby Grazie per il Re Sabino Sì sì Alzo i prezzi Eh ma Vedi che poi Si alzo i prezzi E non costa trappa Ho tutto esposto Signora Quello che vede È quello che ho Che ho Signora E se un gioco Possa aiutare Di scalcoli Non lo so Sì C'era Buonasera Ciao Ciao Sasi Ma poi che si lamentano Tu guadagno ugualmente Sì infatti Fanculo Fact the system Allora Tocca ricompra tutto Qua fratelli Sorelli Mettiamo tutto Nel carellazzo Va Massimo È riso e sale Mancano 314 Acquista E ora Fai pure questo Ma non c'ho i sordi Che simpatici Quale costa De più Il sale Del laboratorio E risobbasmati Costa una cifra Però il sale Sovrendono Eh signori Eh sta tutto qua Poi guarda là Andavo a delle scatole Buttate così Poi mi piacerebbe Troppo vedere Come Come cazzo fanno Questo che è Le uova Sì zio P Le uova le ho già comprate E ma così Sta più a nessuno Mannaggia la mignota Vale male Ora tocca a rimettere Tutti i prezzi Quante cazzo De uova ho preso Ma quante uova Ho preso C'è proprio Le spese inutili Zio Treno Le spese inutili Spaghetti Poi ne è rimasto Uno Lasciamo così Dai Come fate Riempire uno scaffale Solamente con un pezzo Le farine supreme Queste Queste hanno venuto E bene L'olio extravergine Pure Un buon guadagno Devo mettere però Oh me cazzo Tutte le scatole Oh me cazzo Ho messe Allora Il formaggio Va bene Ok Passiamo oltre Abbiamo il tè nero Questo finisce sempre Lo cazzo a corto Del nero Finisce sempre Non si possono lamentare No infatti L'acqua Ancora l'acqua Sta qua pure Mamma mia Male male Ragazzi Male 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 Come Risorto Come mai Come vai Sta andando Devo rialzare i prezzi Devo rialzare i prezzi Il caffè Ed eccoci qua Rialziamo tutti i prezzi Perché così Non si può fare Oh grazie per la pizzona Che carine queste pizzone Non ti preoccupare Li tieni per domani Sì sì No va bene Va bene Allora Vediamo un attimo i prezzi Di nuovo La farina Prezzi 6,68 6,80 6,90 Vaffanculo Non diamo l'eccesso 6,85,7 Il basmati poi costa una cifra 3,60 3,70 Almeno 10 centesimi in più Fra testa Ma comunque 4,18 4,20 Arrotondiamo Vediamo Arrotondiamo in eccesso Ma non di molto 10 dollari 10,99 10,99 10,99 Ok Questo abbiamo fatto Fila 2 2,17 2,20 Alcune cose le alziamo Arrotondiamo un po' di più Altre no 5,90 L'olio È perché va a fa 3,80 Come fa A 3,98 E a 3,80 Non me compra nessuno Steova Dacci vostra 2,70 Fiamo 3 dollari Perché il latte costa Il latte è necessario Se lo comprano tutti Poi questo lo mettiamo A 3,99 Perché ci sta sempre Un prezzo a 99 L'acqua a 2,18 La mettiamo a 2,19 T9 Va bene È andato e partito così 5,40 Mettiamo a 5 5,99 Ma 5,99 Sì perché no 6 dollari 6 dollari E 44 Non lo so Mi piace così Lo zucchero De merda 4,99 64 Lo mettiamo a 4,99 Vaffanculo Vi attappiamo Vi attappiamo Vai Queste abbiamo già fatti Che mi chiede mochetto Voglio zucchero a velo Voi Abbiamo 41 dollari Vabbè dai Basta Andiamo così È vero Amica È vero È vero Ma lo zucchero Si chiama sussù Perché si alza la glicemia Sì Ciao Vale Eccoci qua Ciao Parsifal Supermarcazione È il gioco Per pane a fette Pane a fette Serve Frate Buon in attimo Pane a fette Non possiamo lasciare I signori senza pane a fette Aspettatemi un secondo 4,99 Arrivo signora Eccoci qua Tutto si è comprata Allora Le devo dare 65 centesimi di resto Va bene Arrivederci Ah Meloni Come va La politica Tutto bene 4 dollari E 19 Poglia Signorina Arrivederci Ma sti pacchi De spaghetti Ma quanto cazzo Sono grossi Ma che spaghetti Ha presi Oh Se stanno a comprare I cose comunque Che dite Giusto 91 centesimi 50 E 91 Arrivederci Eh non lo so Franci Non lo so Se ci rimangono De merda Guarda lui Se sta a cappa Tutta la farina Signor Guarda che ci stanno pure L'arte E devono mangiare Mi toccheranno Alla comprare Grazie Culla Grazie mille Per la sabina Tesorina bella Grazie mille Benvenutona Grazie baby Riecchici Su Zucchero e spaghetti Via Tutto zucchero Sanno a 23 E No Vandotte No Lei mi fa paura Cioè Mi fa veramente paura Lei Mamma mia Sbagliata che resta Te da una capocciata Te da E via Corbento Gli manca l'olio Ah signora Zio P Mannaggia Ho 27 E 97 Se metti un prezzo Piatto sul post Eh non l'ho mai fatto Quello Se sbaglia Il digitale Non l'ho mai sbagliato Se volete provo Ma Per esempio Se lo faccio con i contanti Mi dice no Il resto sbagliato Una volta ho provato A fregargli uno 100 dollari Non ci sei riuscita Non so cosa succede Col post Ma penso che Mi dice che È sbagliata la cifra Se questa paga col post No Zero 10 dollari E 63 Grazie Curo sugo Grazie per gli 8 mesi Baby Ben tornà Grazie mille Questo manco Mi guarda in faccia Oh Lui paga con la carta Mettiamogli 45 No vedi Mi dice che È errato L'importo del pagamento È errato Però minca Che cazzata Se noi questa È una cazzata Hanno sbagliato Dovevano farmi Darmi il margine D'errore Allora 4 E 0 1 E tipo Che se sbagliavo Mi facevano la brutta reputazione Tipo Zoccolaro Se fai meno Pure mi dice Che è sbagliato La Meloni Viene a fare la spesa Se spendi 10 euro Poi ne spendi 10.000 Che dà C'hai ragione Zorobi Quando mi danno 10 euro Sì sì Brava La prossima Lo faccio Sì bravissimo Che do tutto Il resto Da un centesimo Guarda le scatole Che hai Hai ragione Mo lo faccio Aspetta Appena se ne vanno Ste racchi No pure qui Con tanti Mi dice che è sbagliato Cioè Me lo vede Che è sbagliato 81 Che tinderi Mamma mia Signo Quanta cassa Spesa 22 centesimi Lui Lui è un assassino Lui palese Un assassino Allora Che dovevo fare E andato Svuotare le scatole Era Giorgio Dove stavano Lo spaghetto Boh Mi ricordo più Mo se crea la fila Guarda Guarda mo L'acqua Ah si L'acqua Non sapia Nessuno Zio Pero Zio Perone 11 e 80 Tu pacchi Sì Ti ha lasciata La donna O l'uomo Ha lasciato qualcuno Tu madre Non lo so C'erano l'acqua E il rubine Oh esce da sto coso Le ova Oh le ova Signori Guarda Appena rifrescate Fresche Fresche Da buco De culo Da la gallina Tiè Bisogna comprare Un punto luce Comunque Decisamente 34 e 95 Lascio a trovare l'olio La signora 50 centesimi La lampadina Sì Allora 17 dollari E 56 Arrivederci Signore Lo zuccherino A 94 e 99 Top I cereali Napoli Di trovare E sta più a male Signore Decisamente oggi Ho fatturato meglio Di ieri Ieri Mi ho fatto Ieri Il giorno prima Abbiamo fatto proprio Una merdata Tutto il giornale Che fa 300 dollari Insomma Mi sembra un po' Excessive Allora Zero Bravo Lui che mi Ne paga in contanti Preciso Che cucciolo Mamma mia Guarda Veramente Veramente Comunque Sto gioco Un po' Mi ricorda Quello del Simulatore Quello della Benzinaio Ma come mi ricordo Mi ricordo più A gas station Gas station Bella Fiscione Gas station simulator Allora Altro giro Altra corsa Tutti trovati Troppo costosi Troppo costosi Uno Resto sbagliato Uno A chi Ha dato Resto sbagliato No ragazzi Oggi niente horror Ma non gioco solo agli horror Io Ma che è sta storia Che gioco solo agli horror Va bene che ne gioco tanti Ma a me c'è gioco un sacco Di cose diverse Gioco Il tentativo No Ah dici per quello No non credo Iniziamo il giorno seguente Innanzitutto Facendo un attimino Una spesa un pochino Più interessante Perché adesso Bisogna assolutamente Comprare uno scaffale nuovo Basta Non sto stufata Si chiama Supermarket simulator E letteralmente Un simulatore Dei cassieri Del supermercato Stupendo Allora Acquistiamo intanto Un bellissimo scaffale in più Perché mi sento Da Ikea Arrivato direttamente qui Mi sento proprio Di Di Non avere Un Non lo so A parte che cazzo Mi ha messo scatole qua Ma che dè Allora Via Da qua Da qua Perfetto Via Ed eccoci qua E così è andato Scaffalone nazionale Lo mettiamo qua Lo mettiamo De qua Scaffone Cominciamo a dargli un criterio A questo A questo bel supermercato Innanzitutto Aspetta sto schiacciando le scatole Innanzitutto Andiamo Oddio Ad ordinare Dei prodotti nuovi Allora Ci abbiamo 400 dollari Quindi stasera Si riempie Aspetta però Non famo cappellate Non famo cappellate Perché Siamo pieni De roba Siamo pieni De scatole Quindi prima di tutto Mettiamo le scatole Olio d'oliva L'olio d'oliva L'olio d'oliva C'è Ma non c'è Non è che ce n'è tantissimo Proprio in realtà Lo trovi Lo trovi su steam Si lo trovi su steam Questo Costa una decina d'euro Milk Sta tutto qua il milk Non dobbiamo prendere milk Assolutamente no milk Bene Mettiamo un po' in ordine Le uova Le uova Le abbiamo rifillate ieri Quindi non c'è bisogno Di metterle Da nessuna parte Mettiamole messe bene Però eh L'acqua L'acqua pure È abbastanza fillina Quindi l'acqua Non dobbiamo prenderla Lo vedi Lo vedi Stava a fare un ordinone enorme Dei cose che non mi servono Poi che c'abbiamo Il formaggio Le fromage Sempre abbastanza arruba Va le fromage Infatti qua Non butta sto coso Allora Andiamo a vedere Che cosa ci manca Il tè Cioè il tè Proprio non se l'è cacato nessuno Il pane c'è Mi manca la farina pure Sale Olio Allora quello che c'è Estratamente sono uova Latte e acqua Hai perso l'account su twitch Alex Mi dispiace Te so Facci miseria Il gioco si chiama Supermarket simulator E mi raccomando Ragazzi Ragazzi e ragazzi di tiktok Sappiate che io sono in live Tutte le sere Dalle 20 e 30 Alle 23 e 30 Su twitch Facciamo prettamente giochi horror Ma anche giochi stupidini Divertenti Tipo i simulatori O anche giochi vari Ed insomma Prettamente horror Se volete recuperarvi Tutti i giochi vecchi Mi trovate anche su youtube Codomo gaming E Codomo live Mi raccomando Iscrivetevi Perché a 40.000 Voglio farvi un tour Dell'ufficio nuovo Che ho messo su Che è veramente Molto bello 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 Andiamo sul mercato Andiamo a comprare Cereali Mancano E Prendiamo 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 tutto Tranne la roba da frigo Perché veramente Ce ne abbiamo a bizzeffe Roba da frigo No Pure il tè Ce ne abbiamo tanto Burro d'arachidi Farina pure C'era Ma riprendiamola Che ci riempiamo tutto A max Dove siamo arrivati A olio d'oliva Acquista Bene Olio d'oliva E spaghetti Riso E sale Ed eccoci qua Signori Adesso andiamo a ricontrollare Subito i prezzi Perché Se i prezzi Sono sbagliati Se l'abbiamo Lettamente In del culo Ok Benissimo Ok Spaghetti E sono andati Gli spaghetti Via Abbiamo il ciocco Pichi pichi A chi pichi lichi lichi Eccoli qua Il cioccolato Ok Via Signore Non mi venga addosso Per favore La faraina La faraina La mettiamo accanto A questa Il gioco di leone Il cane pifone Si l'ho visto Ragazzi E lo porterò Lo porterò Guarda tutta la roba qua Mannaggia miseria Lo porterò Purtroppo adesso Non sto a casa mia Perché per andare a casa nuova Devo aspettare ancora un po' Perché Praticamente Mi sono trasferita In questa casa nuova Però in questa casa nuova È così nuova Che non c'è ancora internet Nel palazzo proprio E quindi Sto aspettando che mi viene il tecnico Da un po' Ormai E nel frattempo Però per fortuna Posso streammare E fare tutto Quello che devo fare Da casa dei miei È un po' più Una rottura di coglioni Perché comunque Ogni volta Devo uscire di casa Per venire a casa dei miei Insomma Una rottura di palle Non c'ho tutto a portata di mano Come al solito Però Insomma La cosa Insomma più buona E valida È che posso Porca troia È che posso comunque lavorare Però Ma c'è accanto il pacco Questo stronzo Però 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 Non essendo Non stando a casa mia Devo stare comunque Agli orari E alle cose Che dei miei Insomma Vanno a dormire Una certa Non è Qua tutta la sera Capito Lello Giovi Anche i detti De merda Assolutamente Sì Questo non lo posso Mettere Lo mettiamo qua Fanculo Voglio Voglio liberare Ma quanti cazze Scatoloni ho preso Ma quanta roba ho preso Regà C'è veramente Eccessiva Ho pure L'altro scaffale Però guarda Lo lascio un attimo Così Grazie Giorgina Grazie mille Guarda il pane Dove lo metto De qua L'altro pane Dove lo metto De qua Perché proprio E ce n'è uno Anderi Effetti anderi Il sale Lo mettiamo De qua Il sale Guarda Ma la tina Non la richiamo Certo che ho richiamata Sì Ti pare che non la richiamo Mi serve internet a casa Come l'aria Che respiro Certo che ho richiamati Però Il problema Regà È che io vi posso dire Pure Ah sì ragazzi Non vi preoccupate Ho preso l'appuntamento Questo giorno Avrò internet Ma tanto Non si presentano Cioè Letteralmente Sono Già tre volte Che prendo appuntamenti Cose Ma Questo va bene Ma non si presentano i tecnici Questo pure va bene Il caffè Perfetto Questo pure va bene La farina Ok La pasta Qua Va bene Il sale Va benissimo L'olio 370 Perfetto Le uova Perfettissime Il latte Pure Il formaggio Mi sembra Perfetto Anche questo È perfetto Controlliamo il burro D'arachidi Comunque dovrebbe Dirmi Dovrebbe dirmi Qual è che Mettiamola 630 Magari Puzzar culo A quelli che Comprano le robe 490 Mi sembra giusto Ci sta anche Questo Vediamo un po' De qua 371 4 Questo costa Troppo Costa 399 Chiaramente Poi questo è proprio Il prezzo tipico Da 399 Il sale C'era di qua Il ferez Il risobbasmati Non l'avevo più Impressato Il risobbasmati Porco 2 599 Anche il risobbasmati Totale Bene Signori Possiamo aprire Il nostro localaccio Ma Non prima Non prima Di aver Comprato Dei punti luce Perché mi viene L'angoscia Ogni volta 40 dollari Che cazzo Non ce l'ho Dammene una sola Che te devo dire Vaffanculo Eccoci qua Un faretto Dell'Ikea Porco 2 40 dollari Ma che davorio Fai Mi sembra Un po' Scorretto Aspetta Ho messo Storto Ok Open Bene Ci siamo Cesemio Non lasciarti Perché devo andare Sotto A mia moglie A dormire Insieme Ciao Mary Ciao Buonanotte I cereali Costano di più Merda Non l'ho controllato I cereali Fai vedere 480 Merda Costano un botto Di più 5 E 55 55 25 Non l'avevo controllato I cose Supermercati La faraina Buonasera 13 Buongiorno Anzi Perché sei 8 del mattino 80 Arrivederci Guarda come se imbustano I cose Pare di tipo Che qualcuno Gli vuole rubare Capito Guarda come è storta Guarda Tutta storto Supermarket simulator È il nome del gioco 14 E 30 Il sale Il sale Non vedevi Da niente Giaone Storta Ma affascinante Devo dire Non la vogliono La busta Non la vogliono La busta Portano sempre Le buste Da casa loro Micchia Ma quel coso Che cazzo è Un coso Un server Non è un Server Un pc Quanto è grosso Che cosa succede oggi Una roba Si gioca solamente Su pc Sconticini No Mi dispiace Non posso Buonasera L'olio Signore Si Arrivederci Caffè Per il signore 28 88 Arrivederci Burro da raghi Ottima scelta Sir 5,99 Per lei Arrivederci La luce Non alimentata Con le altre Vi disturba Ma vabbè Ma è tutto così Sto negozio Ma te pare Un negozio A cui dare Veramente credito Cioè Guarda là Il signore Si stancula Si stancula All'alte Si possa mettere Nel taschino interno Il proprietario Sono io Cristi Mi dispiace Vado a dormire Ciao Ivan Buonanotte Sposta il faretto Dalla cassa No Devo essere illuminata Che poi Non ci vedo Che da resto Vado a resto Sbagliato Ma raga Ma non è che Gratis La roba Che basta Da rubare Cioè Ma come sapia Una roba Devo scaffale Oh Eccoci qua Mamma mia Oh Mi pare Pagata la carta 36 E 81 Arrivederci Poi E la madonna Madonna Signore Ma io così Devo rifare La spesa Devo rifare 5 dollari E 75 Ne sono Pazziti Oh Ma che Tutti insieme Sono arrivati 3 centesimi Ma devi rivo Sì Mamma mia Guardali 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 Che spesa Che fanno Ma sto buco De culo Mi deve fare La spesa Venite Guarda pure I cati perri Che spese varie 48 E 97 Comunque Stiamo Upgradando Siamo quasi A livello 10 A livello 10 Vi ricordo Che possiamo Mettere In cassiere Quindi tanta Roba Tanta roba Direi 38 E 38 Ecco il fio De mamma Il fio De papà Il foco De mamma Davvero Sembra Durante il covid Quando si portavano Via Roba Veramente A panettoni Ecco questi qua 28 euro Per la signora Pietene Mignotto Arrivedorci C'era Farina La siete comprata Tutti 7,98 Stanno a crociare L'occhi Sì Mamma mia Arrivedorci C'era la farina Degliari Di solito I commercianti Sono felici Quando i clienti Fanno la spesa I commercianti Sì Mi comincia A pesarsi Ti dico La verità Questo viene Qua solo Corsale E me da 100 doll E me da 100 doll Ti deve Pia Proprio La cacarella Quella Pesante Cazzo Ti dico 3 ore Ma Io dovevo Da tutti Da un centesimo E sono sbagliata Mannaggia La miseria Mi sono sbagliata Mi ricordate Il prossimo Per favore Questo è troppo preciso Non riesco a trovare Farina e farina Ce l'ho Le cose Vediamo un po' Infatti Vediamo un po' La farina Farina E cacquati Farina 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 De così Non se può Farina Farina Olio De laiva Ma l'olio De laiva C'è Non è che Manca Fatemi riempire Lo scaffalos Fammi riempire Qua Perché se no Aspettate un attimo Che c'è la fila Lo so Ma sta qua Va a comprare Ma bevete Nel mondo Voi Vabbè C'è la fila Fino all'altra parte Arrivo subitissimo Signore Non si apre Mamma mia Con tanti De merda Arrivederci Oh mio Dio Non si vede più Una sega 70 centesimi 50 63 1 2 3 Arrivederci Mamma mia Mamma mia La carta Signora Meno male 39 E 18 Grazie Arrivederci Buona serata Prego Pane e uova Ottima spesa 13 E 98 Arrivederci Grazie Oh Kanagawa Tutto bene Corcontante Mi paghi Ma che te potesse Pia un grandissimo Corpaccio Le do tutti i pezzi Da Guarda Mi dispiace Kanagawa Non c'è il resto Giusto Che ti Dico C'è nemmeno la luce Che si vede una sega Kanagawa Guarda mi dispiace Per questo scompenso Ma C'ho tutti i 10 centesimi Te lo da No Sono dati troppi 59 Aspetta Non so più Fai conti ora Ok No Dietro E Che davo tutti i speech Aspetta Ho solo uno del centesimo Ecco qua Kanagawa A te Oh scusa uno Eccoci Sarà Bioccato il pubblico Ti l'hai visto 2 euro E 20 E la madonna Ernesto Mamma mia Ernestone Ma che ha fatto Ernestone Ha fatto lo spesone Guarda lui Che paga La carta De mamma Come Come voli 26 Perfetto Ah Che bello Quando pagano La carta Io in realtà Non lo so Non so cosa è peggio Sinceramente Allora 10 E 88 Pagamento errato 10 Ho detto 10 E 88 Bene Non c'è Riso Basmati Guarda lui Questo è lo spacciatore Il quartiere 4 58 Arrivederci Grazie Arcontantone Signo 4 E 40 Arrivederci Mamma mia Ma quanta No me sono sbagliata Mi ci stanno A crociare All'occhi Frate Veramente Amma Mau Però guarda Che tra un po' Possiamo andare A livello 10 E assumere Un cassiere Regà Lo voglio vedere Lo voglio vedere Ci voglio arrivare A quel punto Ci voglio arrivare A quel punto Troppo Vediamo un po' Prodotti Controte 13 Troppo costosi Due Resto sbagliato Zero Quasi la fornitura Noi ci siamo Ci siamo Ciao Lebbina Secondo me Sarà tipo Lento Asfac Cosa Al cassiere Dici Ma in realtà Le cose Che sono Come si dice Meccaniche Tipo Questi giochi Simulatori Di roba così Meccanica E usuale In realtà Ti catturano Non so come mai C'era pure Tipo Come si chiamava Non mi ricordo Mai La seconda volta Che me lo scordo Gas station simulator Che è ridettivamente Un benzinaio C'è il simulatore Del supermercato Insomma un sacco Di simulatori In realtà Sono quelli Che ti tengono Più attaccati Perché sei È talmente ripetitivo Che tipo Te imballa Non lo so com'è Te imballa una cifra Grazie per la paperella Che carina La ciambella E anche le patatine Grazie mille Ciao Teona Ben arrivato Allora Siamo a 800 dollari Livello 9 Non abbiamo ancora raggiunto Il livello 10 Questo è molto male Molto male Contraband police Eppure c'è un altro gioco Assurdo quello Vediamo un po' Se possiamo comprare Una licenza nuova Eh 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 Torta Dolci Cereali Barretti al cioccolato Ma di che stamo A parlà Ma compramosi Una Ma compramosi Una cosa Compramosi Una licenza Ciao Cusinilli Buonasera Ciompos Ma compramosi Una licenza Per piare le torte Non è che poi dovrei Dovrei pure Comprare il frigo L'alcol Ma l'alcol Non lo posso comprarsi Vedi Sono le richieste Vedi Devi sbloccare Devi sbloccare Le cose Ma da dire Cannecina Galletti Pirra chiara Livello 56 Frate Cioè Ma che Quando adesso Ci arrivo Livello 56 Eh Devo comprare il frigo Devo comprare la licenza A finiti i sordi Praticamente Sono veramente Un botto di roba In questo Tavo veramente tantissimo Comunque Ah Devo pagare pure le cose Qua Ammi ragazzi E Se volete Recuperarvi gli altri giochi Ragazzi Vi aspetto su youtube Mi raccomando Su youtube Iscrivetevi È gratis Dovete vaga niente L'iscrizione è gratuita Mi raccomando Che siamo verso i 40.000 iscritti Mi raccomando Ciao Mary J Buonanotte È fatto molto bene È fatto molto bene Sì E Boh Io vi direi Che possiamo Anche acquistarla Questa licenza Perché ci rimangono 193 dollari Che c'è posta Alla fine C'è posta Vediamo un po' Prodotti Dunque Abbiamo delle robe Qui Vediamo un attimo Come siamo messi A cose Abbiamo il latte Che sta qua da ieri Potrebbe essere Vagamente scaduto Ma a noi Ci frega un cazzo Non diremo nulla E Ci abbiamo l'acqua Che in realtà Non si compra nessuno No Ieri se la sono comprata Un po' d'acqua Va bene Quindi abbiamo tolto Tutti gli scatoloni Perfetto Non dobbiamo assolutamente Comprare lo zucchero A velo Basta E Abbiamo tanto olio E tanta farina blu Choco gas Qua pure Vabbè Senti Compriamo tutto Ma soprattutto Compramo Che cose va La torta C'è Lo yogurt Sicuramente va in frigo Dolci Parretta al cioccolato Cereali nuovi Torta Torta Vediamo un po' Siamo a 150 Roba da pazzi Questo quando Quando scende il prezzo così Probabilmente mi conviene Prenderlo O no? Allora in realtà Ragazzi Sì Volevo fare giusto Ultimissimissima run Ultimissima giornata Perché poi stacchiamo E Bisogna capire Potresti togliere Uno scaffale d'acqua E ci metti dolci Sì Capito Però sai cos'è Che Gli scaffali Sono stati I prodotti Li puoi spostare Da scaffale a scaffale Tipo quelli simili Man mano che va No Non me li fa spostare È infame È infamissimo Grazie Aleppina Grazie per i quattro mesi Grazie mille tesoro Thank you Senti andiamo così E vediamo che cosa manca Poi piano piano Perché Se no Non si inizia più Mi la metto a posto Tutte le scatole Te pare a te Grazie Sordix Grazie mille Guarda i carini crispy Crispi Cereali Le caramelle Le caramelle Le mettiamo da qua Guarda là Di voi Marshmallow Fantastico Oh grazie Gandixone Bentornato 27 mesoni Grazie mille La torta La torta Grissinbon 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 In mezzo ai dolci Ovviamente Oggi Porta in tavola La novità Madonna che torte Lerce Marce Ragazzi Cioè veramente Quelli con 780 mila Conservanti Ma che è sta roba I cioccolatini Che so Questo lo yogurt Il yogurt va qua però Che yogurt Marce Comunque Pure questo Eh Questo niente Non lo posso mettere via Vabbè Allora Tutte le persone Abbonate di oggi Ragazzi Mi raccomando 4 4 E 39 Se volete Potete entrare nel gruppo Telegram degli abbonati Se volete Se vi fa piacere 4 dollari Questo L'olio È a 5 90 Va benissimo La farina Va benissimo Questa sta per finire Vabbè Lasciamolo così Il sale Ce n'è uno 2 E 49 C'è un 3 Perché sbaglio Cazzo 2 E 49 3 70 Lo lasciamo così Perfetto 4 dollari Ok 6 dollari Ok Lo yogurt Lo mettiamo a 2 E 29 29 L'acqua Va bene così Il cerealo Nuovo Lo possiamo mettere a 5 99 Il Tè 30 Va bene Va benissimo Il ciocopiquio Va benissimo Il pane E No Il pane va bene La torta Quanto la mettiamo 2 E 50 La torta Proprio tipico Prezzo Da torta 2 50 Le caramelle Gli costicchiano Le caramelle Gli costicchiano 2 255 Va bene Le caramelle fanno male Inveve di comprare Non è un bene primario Quindi ci posso marciassura Ciao Grazie Gabri Grazie mille Per i 5 mesi E grazie a Monge Per i 4 mesi Pure grazie Tesori Grazie mille Grazie mille Eh Vabbè Regà Sono Prezzi fittizi Grazie Samantuna Grazie mille Grazie mille Sono prezzi Carametti Fuori dal mercato Normale C'è partito anche Un hype train Qua signore Ho messo 45 Dove Cosa ho messo 45 Sì come ho messo 45 Cosa ho messo 45 No 4 e 50 Buongiorno Vabbè ma finito già tutto nel coso questo Ma allora Eh io pure voglio vedere il cassiere Zio P Però non so Ci arriviamo A livello 10 No no È giusto il prezzo Del Chiamo Delle caramelle Giustissimo Allora 49 dollari De spesa Torello Fratello 25 Ok sì Questa comunque è l'ultima run Regà perché Veramente me si stanno a crociare l'occhio Con tutti questi cazzo Dei numeri 24 e 73 Perfetto Arrivederci Devi arrivarci solo perché infatti io volevo Cioè sto facendo l'ultima Perché voglio vedere il cassiere di merda Come è fatto Porco 70 50 70 E 56 Grazie Mela Grazie mille tesoro Grazie mille per i bittini Mamma mia Regà Ma che è Ma che d'è qua 39 E 13 Sì Ma che cazzo 39 Punto 13 Oh Arrivederci Eh oggi c'è il pienone Magari Weekend Tu c'è fa la spesa stasera state Eccoci qua Mamma mia Guarda i caramelletti compri Oh eh Pari Paro io Ok guarda io E 50 65 Perfetto Il vecchietto Chi ci ho coprì Chi se Ma dove vai Ma te fanno male Te fa venerdì a bere 98 Mamma mia Regà Talmente piccolo Yogurt E manco riesco a cliccà 26 E 92 Prego Eh ecco Enrico Augusto Tacci tua Augusto Tacci tua Augusto Quando mi danno 100 dollari così Mi giuro viene Proprio da Da piagni E mi viene Succaro Becchetti di caramelle Per signore Perfetto 9 E 10 Arrivederci Grazie Erpane Pasignonin 9 90 Arrivederci anche a lei Un pacchetto di torta Io Regà Io non rifaccio la spesa Allora 17 7 E 5 Arrivederci Io non rifaccio la spesa Regà Cioè quello che manca Manca Rimane mancato Rimane decisamente mancato Stanno a rubare i caramelle Devo dire Pensate Avrei messo un prezzo troppo alto Invece Invece sta andando Non riesce a trovare la farina Cazzi tua Scusate quello che hai Ma non c'ho un cazzo Però regà C'ho Il fruttolo Il fruttolo 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 Vedi è già finito Aspetta Stiamo qua sopra Va Perfetto Se togliamo sta scatola Allora Resto nessuno Che bello quando mi dice Resto nessuno Fantastico Guarda Veramente fantastico Fantasticone Il bello di casa De nonna De mamma Eccoci qua 5 dollari Mamma mia regà Spese fate Spese folli 5 centesimi Che bello Quando è così Paro paro Signore paga 17 E 68 Devo ammettere Che quando ti devono pagare Tipo una notte Poi devi anche Non dare il resto Perché molti pericolari Non lo danno È vero È vero C'è scritto proprio Non hai messo il prezzo Di yogurt Ma come Ho messo sì Non è che ogni volta Che lo metto Devo Cioè Quando tu hai dato Il prezzo A un alimento Non devi per forza Rimetterlo Il prezzo Se lo metti Su un altro scaffale Il prezzo Dell'alimento Già c'è Puoi metterlo Su quattro scaffali Diversi Ma non devi rimetterlo Il prezzo Su un scaffale Allora 5 6 E 64 Arrivederci Grazie Il latte Comunque l'unica cosa Che ti permette di fare Dove puoi sbagliare È il resto in più Cioè se tu gli dai tipo 50 euro in più Non ti dice che è sbagliato Solo se gli dai in meno Dici Sto via Il prezzo è mad Cominciamo ad accendere la luce Perché comincia Se già non vedessi più Il cazzo Eccoci qua Comincia il coso finale Oh 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 Potremmo Potremmo riuscire Potremmo riuscire A vedere il livello 10 Ti prego Prego Dimmi di sì Dimmi di sì 50 60 94 Arrivederci Non so se ci riusciamo A vedere il livello 10 Col cassiere Sento Mario Guarda Ma soprattutto Chissà com'è Che prendi i punti Ah I punti esperienza Li prendi se non sbagli Mai niente Ho capito 50 60 84 Eccoci qua Poni Sordi Precisi Perfetto Vedi Sto Più cose Faccio pagare Più vado avanti Capi Capace pure Che in realtà Possiamo assumere qualcuno Eh dai 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 Ce la possiamo fare Dai ti prego Ti prego In secolo zero Puoi anche non metterlo Sì è vero È vero Posso Se tipo Deve pagare 4 euro Posso anche mettere solo 4 Non si mette nient'altro Bisogna far tutto Sto regà Qua ci sblocchiamo il livello 10 E voliamo eh E voliamo fortissimo Dai 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 La signora mi fa pagare Questa che devo dare Niente Venite venite Entrate 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 Sono le 9 di sera Mi sa che è quasi chiuso Dai ragazzuoli Fatevi una bella spesa Fatevi una bella Portatevi via tutto Portatevi Portatevi via tutto 61 Sì Livello 10 Mamma mia si vola Mamma mia si vola Domani abbiamo il cassiere Mamma mia si vola 11 E 80 Let's go Zucchero 7 E 98 Let's go Quanto cazzo so Sarebbe figo Che fossesi Multiplayer Ti immagini Cioè ti immagini Che giochi tipo Con qualcuno Sarebbe veramente Ma ste cose fighe così Non le fanno Difficili da fare Non capisco Osvalto Assunta Chiamato Oh Vediamo se mi fa Assumere qualcuno Mercato No Ho messo sbagliata Gestione Assunzione Livello richiesto Assumere Ma è apparso Magicamente Sto male Sto male Ora devo vedere Che cosa succede Però Porco Due Vabbè Non c'ho più niente Quindi direi Che possiamo Comprar tutto A te nero A te nero Sei arrivata Brutalachidi Ok Farina Ore d'oliva E lo yogurt Non mi ricordo Se c'era 274 Micca Ho fatto veramente Spese folli Qua No vabbè Ma tu dimmi Se è normale Allora Spaghetti Cominciamo a mettere Le cose Le cose fatte bene Come devono essere messe Mettiamole di qua Allora Mamma mia Come lo rasciamo Mamma mia Come lo rasciamo Mamma mia Come lo rasciamo La farina Mamma mia La farina Come vola C'è c'ho tutta la roba sotto A mezza strada Zio P La pasta Come toglie questi Burro da rachidi Voglio solamente Vedere un attimo Come C'è salvia Adesso facciamo Sistemiamo tutto Salviamo E poi proviamo A fare Una giornata A lui Però non la famo Tutta regà Perché sennò Veramente Cazzo Ho preso Yogurt Non Serviva Vediamo che cosa fa Il coionazzo Grissimbon 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 A me qua La scatolon Formaggio Assolutamente Da mettere Che chiedono sempre Sto ragazzo Formaggio Ma ti cazzo Che cosi c'ho Ah sale Sale non c'avevo neanche Ok Ammierica Tutta la roba A mezza Cosa è nata Di piano pieno Va bene Di piano pieno E Questo Mettiamo qua E qua Questa Tutta la roba I residui Si mettiamo Da qua Da quest'altra parte Perfetto Allora I riso basmadi E i riso basmadi Mettiamo qua sotto Ho mischiato un po' le cose Ma vabbè Volevo dare un ordine Ma non ci sono riuscita L'olio L'olio evo Evo olio Ok Non voglio lasciare un cazzo Dentro le scatole Sto giro Guarda I giocoprochis Belli scaffaloni Piani Sai che abbiamo quasi finito Dai Il pane Perfetto Poi ci abbiamo La faraina La faraina La mettiamo qua Cento per cento naturale Poi ci abbiamo Ci abbiamo Il Gli altri cereali Gli altri cereali Li mettiamo qua Qui ci mettiamo Le schifezze Capito Se vuoi la buela Questo Ah ecco qua Qua ci metto i miei schifezze I caramelle I marshmallow O le aribo Dipende Al gusto Allora L'altro olio Lo mettiamo qui Palese Oh guarda che bello Sto supermercato Certo comunque Posso dire che Rifare la spesa Ogni giorno È veramente stressante Interessante Più che altro Perché poi devi sempre Stare a controllare I prezzi È veramente assurdo Allora Abbiamo tutto Mi sto rilassando È vero Secondo me è il suono Bisogna controllare Tutti i prezzi Colonna per colonna 5,90 5,68 Va benissimo 5,99 Ok 4,99 Va bene 4,20 Va bene Passiamo allo yogurt Lo yogurt Sa 2,29 Va benissimo 3,99 Ci può stare 2,29 Ci può stare Accanto 7 Vanissimo Ballissimo 4 è un po' Effettivamente Carino Quindi abbassiamo Un pochettino Ci può stare Il sale Ci può stare La faraina Perfetto Lo sugar Direi di no Direi che Lo mettiamo A Così 40 Anche 4,40 Dai perché no La torta Va benissimo Il riso basmati Va benissimo Questi sono ok Questo va bene Il ciocopi Questo va bene Caramelle Vanno Allora ci siamo Se è fatta notte Vediamo come funziona Il nostro Fantastico Cassiere Oh Che Mi sono scordata Come si Chiama Come si chiama Il cassiere Come lo chiamiamo Lo chiamiamo Lui c'ha la faccia Da C'ha la faccia Da Leonardo Paolino Da Lucio Oddio Manolo pure Ci sta Lentino Gianfranco Gianfranco Manuelo 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 Lascio a te Allora Adesso praticamente Posso fare Il capo E guardare Come vanno Gli affari E se manca qualcosa Posso fare Un ordine Posso finalmente Guardare Gli scaffali Posso vedere Come posso Accendere la luce Quando comincia A non essere più Cioè Posso pagare Le bollette Mentre Il mio cassiere Mi fa le cose Gestione Fatture Posso pagare Le cose Non c'ho più una lira Che paga a lui Manuelo Devi dare una svegliata Però fratello Perché se no Veramente Un pochino più veloce Manuelo Lo so che devi fare Un po' di pratica Però Manuelo C'ha una camicia Buggata Manuelo Veloce Vai Uno Due Tre Non mettersi sbagliata Da resto Perché qua è tutta una Rimissione con te Manuelo Ma devo spazzare Un attimo De fuori Lo pago in yogurt Manuelo No il gioco Non è gratuito Si paga 10 euro Su steam Quindi solo da pc Oh Guarda che bella La vita Si Ducasse Mo mi so sbolonata Rottura dei coglioni Mi metto a far Ducasse Ma ne esiste proprio Si Mo guadagniamo Piano piano Si ampliamo Vedete Manuelo Rubata la cassa L'ho visto Fa il lavoro Dei cinque dita Manuelo Ma non riesco A trovare Big Big Uovo No Va bene Lo ordiniamo Subito Il big Uovo Vediamo un po' Big Uovo Ah perché mi sa che le big Uovo non le ho prese Eccole qua C'è capito Manca una cosa Tac La ordino Arriva La metto a posto Mentre Manuelo Manuelo Si preoccupa di Sto cazzo Perché non c'è Sta più il frigo Mannaggia Miseria Eeeh Ci stanno Non c'è Stanno il posto In frigo Regà No Anzi Sei sicura Rita Sei sicurissima Vediamo Ah Prendere Mio dio E' vero Oh mio dio E' vero No Pe uno Si Che sfiga Pe uno Compratevi Stovo Ve prego Compratevi Un vasetto De 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 Cosa Se prego Ma questo E' quello De Grissinbon 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 Oggi Porta in tavola La novità E' proprio lui E' proprio lui E' piatevelo Sto vasetto De yogurt Ma che va fatto E' manu'è Lo Sarà Ma una svegliata Si Vuoi un caffè In cappuccino Pure E' manu'è Oh nessuno Si sta a comprare Sto vasetto Ma voglio Pecca peccollo Sto vasetto De yogurt Compra il frigo Ma non c'ho I soldi Che paga Manuello Poi Pare che sto A fare un venditore Ambulante Dei vasetti De yogurt Vabbè dai Veniamo un attimo Su Al massimo Manuello Chi Oh finalmente Uova Bio Tutte qua Belle dei caselle Vedi C'è E' un'altra vita Così eh Quando non sei Succube dei clienti In questo modo E allora Questo Lo mettiamo De qua Devo prendere il latte Vedi Ripiano piano Ma quanti cazzo Dei yogurtini Ce stanno Io mi chiedo C'è io mi chiedo Quanto Che me manca uno Oh si è incastrato Prendiamo la luce Ma Come posso fa Non ci credo eh C'ho tre ripiani Vabbè Tre ripiani Dei cosi Davvero C'è mia luce Che sta arrivando Allora Prendiamo sto cazzo De latte Dai Prendiamo sto cazzo De latte Grissimbin 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 Oggi porta in tavola Una novità Due a due Confezionate Sono le fette Discottate Grissimbin 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 Con i gongoli Croccanti Che son tanto Appetitosi Ogni schiaccia E fornarelli E i gustosi Fagolosi Stuzzica L'appetito E la Fantasia Oh Cioè potrebbe essere Tranquillamente Una colonna Sonora Di un Capolavoro Di Harry Potter Fantastico Non sarebbe meglio Averla vicino All'uscita Come nei supermercati Ma No Cioè Non è un supermercato Prendere la versione Gioconda Di scaffale Il frigo Ma se possono Rivenne sti cosi Non lo so Sì Non lo so Facciamo un po' Di soldi così Poi vediamo Intanto Cominciamo con L'attaccare Meglio Questo cazzo De frigo Che me sta triggerà Perfetto Ora sì Meglio Cioè Sta diventando Sta diventando Veramente Un giorno Un giorno Un supermercato Interessante Supermercato Interessante Questo cosa qua Non mi piace molto La verità Vediamo un attimo Lo sviluppo Vediamo lo sviluppo Sezione 4 Marmagazzino Magazzino bloccato Non me lo fa a me Personalizzazione Prossimamente Livello negozio Pagamento completo 200 Mamma mia Menomale che non L'ho rifatti I sordi I sordi Frate Basta Non posso più Compra un cazzo Alla fine Abbiamo fatto Fa tutta la giornata A Manuello E Manuele Sei andato bene Però Dai La sei cavata Dai Emanuele Piede ste dubiotte Si vola Ragazzi Automaticamente Personale 80 80 Mi ha preso Alla fine